Allora, io ti do subito la parola. Volevo sapere Aldo, scusa Vanessa, il tema che intendi affrontare con gli studenti. Sai che è un modulo già monè, quindi rapporto Corte dei Conti italiana, Corte dei Conti europea. Mi piacerebbe sentire anche loro, anche voi che volete ascoltare. E poi soprattutto visto, scusate ragazzi, visto che il nostro, il professore Carosi è stato fino a pochissimo tempo fa giudice costituzionale, vicepresidente della Corte Costituzionale e responsabile, dico in tono affettuoso, di un revireman nella giurisprudenza costituzionale, perché grazie alle sentenze che sono della Corte, però l'estensore è stato sempre Aldo Carosi, giudice Aldo Carosi, la Corte Costituzionale ha avuto un atteggiamento di maggiore attenzione sia sulle regole della finanza pubblica e quindi è diventato un tema presente in una giurisprudenza che io ho definito carosiana, perché lì si sono affrontati i temi sull'equilibrio di bilancio, quelle cose che voi avete ascoltato nella lezione precedente, sul bilancio dello Stato, sulla riforma costituzionale, sull'equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato. Bene, e non solo, il giudice Carosi è stato, come dire, l'ideatore anche di sentenze dove si è capovolta un orientamento che ahimè per anni era avvallato anche dalla stessa Corte Costituzionale, cioè i diritti finanziariamente condizionati. Un esempio, il diritto alla salute. Ecco, il diritto alla salute con questo orientamento, con quell'orientamento vuoi avvallato dalla, scusatemi, dal legislatore, vuoi anche giustificato parzialmente da un orientamento della Corte Costituzionale, è stato la vittima di tagli lineari che ci hanno portato, quando è scoppiato il Covid, all'emersione, anche se molti problemi li conoscevamo di già, di cosa ha voluto dire tagli lineari per anni alla sanità. E c'è una sentenza importante, di cui è estensore ovviamente il giudice Carosi, dove si dice esattamente, si stabilisce un criterio, che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e non è comprimibile finanziariamente, per cui, come dire, è il diritto che deve guidare poi il finanziamento e non il finanziamento che deve definire la quantità di diritto che spettano i cittadini. Quindi voi capite bene che è stato, mi auguro che questa linea assunta e quindi questo orientamento della Corte Costituzionale prosegua perché è stato un baluardo a difesa di diritti fondamentali che spesso nella nostra vita, diciamo, parlamentare dei vari governi sono stati troppo spesso sacrificati. E quindi ora io non dico altro, do la parola al presidente Carosi e lo ringrazio di dedicarci questo seminario. Parole organizzative, vi ricordo che questo è il seminario da un credito, quindi tutti voi con questo seminario oggi prendete un credito di quelli che si è scelta. Quindi ricordatevi di iscrivervi alle prossime appelli in modo da registrare il credito, perché il credito da oggi lo potete registrare nel giro di sei mesi, perché noi poi se no dobbiamo mantenere la lista. Quindi iscrivetevi ai prossimi appelli per registrare il credito, va bene? Alla mia età, Vanessa, io posso impiegare questo credito col padre eterno quando andrò a scontare i molti peccati commessi. Lei ne ha trovi, quindi non le serve. No, invece no, per il contrario, vorremmo tornare indietro. Utilizziamo i credit per ritornare indietro. Va bene, a me la parola. Bene, intanto mi state dando troppa importanza e come ho detto più volte, insomma, sono io onorato di essere chiamato da questa prestigiosa università e in partnership con le istituzioni europee per parlare di un argomento, la finanza e la contabilità, che pur avendo dei saldi fondamentali, di cui la professoressa Colombini, che tra l'altro è un esponente, diciamo, di spicco, negli ultimi anni sono diventati un pochino ondivaghi i principi finanziari contabili spesso ombrati da terminologie anglosassoni, che nella lingua inglese non significano praticamente nulla perché nel nostro vocabolario ci sono dei termini molto più appropriati, così come sono diversi termini francesi da quelli inglesi, però, dicevo, ecco, questa situazione poi è servita agli orecchianti della materia per riempirsi la bocca, a mo' del mitico bocconiano dei drive-in degli anni 90, riempirsi la bocca per dimostrare, far presupporre una grande quantità di conoscenze, mentre invece spesso vengono ripetute banalità. Io, quando voglio ripassare il mass mediese peggiore, ascolto i telegiornali della mattina, ma non tanto le persone che vengono intervistate, che in genere sono persone preparate, ma gli speaker, e devo dire, le speaker della televisione, in primis quelli della Rai italiana, che non si sa se stanno facendo la telecronica di una partita di calcio, oppure un salotto alla Costanzo Show, pace all'anima sua. E quindi, praticamente, questa situazione che cosa comporta? che nel dubbio tutti gli armenti possono diventare bigi, lo diventano, e quindi i saldi presupposti europei che ci hanno ispirato, che ci hanno fatto vivere dalla nostra gioventù ad oggi, nell'aspettativa, come veniva detto allora, che le frontiere, anziché dagli eserciti, fossero passate dalle merci, e quindi una pace di tipo, proprio di un rapporto di tipo irenico tra gli stati che un tempo erano perennemente in guerra, tutto questo in realtà oggi è finito nel dubbio. E quindi sta a noi che abbiamo i capelli bianchi un pochino cercare di rimettere la Chiesa al centro del villaggio, ricordando alcuni principi che comunque sono intangibili, a cominciare da quelli che possiamo chiamare umanitari, sociali, e per poi passare agli altri pur importanti che però in un bilanciamento secco devono recedere di fronte a quel senso di umanità che ha dominato le grandi costituzionalizzazioni del secondo dopoguerra, quella che venivano dopo il terribile disastro della seconda guerra mondiale. Un disastro tra l'altro annunciato da un grandissimo economista, John Maynard Keynes, il quale diceva che imporre delle dure sanzioni agli stati perdenti, si riferiva proprio alla Germania in primis, avrebbe praticamente provocato reazioni anche irrazionali, ma comunque violente, di popoli orgogliosi non abituati a delemosinare e a rimborsare tenendo un tenore di vita bassissimo e quindi alla fine si poteva andare verso avventure non impreviste. Noi sappiamo che in Germania purtroppo c'era una bella costituzione, della Costituzione di Weimar e che mai abrogata, badate bene, Hitler non ebbe bisogno di abrocarla, l'abrogò in via di fatto. E lo stesso Hitler andò al potere tutto sommato per la via parlamentare perché perse una valanga di elezioni, non vinse nemmeno l'ultima e alla fine per sfinimento gli fu concesso l'incarico di formare il governo con i risultati che tutti noi abbiamo, per fortuna noi, imparato sui libri di storia ma altri sulla loro pelle. Quindi questo incipit tra il pessimista e il polemico secondo me serve per far sì che questi incontri si svolgono proprio nello spirito di Jean Monnet, di quei grandi, parlo nel nostro Altiero Spinelli, e quelle grandi personalità, parlo anche dei nostri costituenti, Croce, De Gasperi, Togliatti, i quali praticamente venendo da questa tragica esperienza si impegnavano per una osmosi di tipo culturale prima ancora che giuridica, un'osmosi in cui bisognava condividere valori piuttosto che affermare la propria primazia. Non un'Europa intercompetitiva, ma un'Europa, anche se lì non si scendeva molto nel particolare, ma un'Europa dove queste interrelazioni dovevano essere innanzitutto solidaristiche e diciamo precauzionali nei confronti. Presidente, gli studenti siccome stanno prendendo appunti ci chiedono se può parlare un pochino più piano. Più piano, bene. Adesso poi ti passo la parola a te e quindi... No, 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 la sua lezione è programma d'esame, che come... è una delle poche di loro sono giustamente vogliono prendere appunti. C'è un problema che l'università è eccellente, ma sotto profilo tecnologico fa schifo, nel senso, da subito a tecnico, perché non c'è un'aula che sia acusticamente preparata per questo tipo di lezioni. Per cui, in fondo, rimbomba, se si va in Alamagna, anche peggio, per cui la relazione di Giovanni Coppola, nemmeno io che ero lì, riuscivo a capire, perché purtroppo acusticamente... Quindi ti chiedo di darci una... No, ma assolutamente, assolutamente. Cercherò di andare più piano. Poi non so se con la tecnologia che abbiamo qualcuno di questi ragazzi, che sono bravissimi da questo punto di vista, impagabili, riescono a registrare per far sì che poi ne possano fruire prima di un'ipotetica interrogazione. Stiamo registrando, senza il suo consenso, non gliel'abbiamo chiesto, ma abbiamo già iniziato a registrare. Va benissimo, Vanessa. E quindi dicevo che questo incipit ci voleva anche per rendere onore ad una classe politica che mediamente era di un livello siderale di fronte alle classi politiche. Non parlo soltanto di quelle nazionali, ma parlo anche di quelle internazionali, anche di quelle europee. Insomma, questi grandi non potevano essere paragonati con gli ultimi commissari, con gli altri che si sono misurati in quest'ultimo periodo con le gravi tematiche. E quello che purtroppo a me come studioso della materia e come, ripeto, l'uso di un nuovo corso preoccupa è soprattutto che di fronte al primo scoglio duro dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che sono state le crisi scoppiate dopo il 2009 e poi appunto il virus della finanza internazionale, soprattutto quella bancaria, e poi la pandemia, e poi la guerra, all'improvviso è caduto come un castello di carta anche l'illusione, perché si è visto, anche a noi viene il dubbio, ma allora questa unione era così potente, un'idea così forte, perché non ha trovato di fronte nessun ostacolo, ai primi ostacoli si è sgretolata. Questo non deve essere. E la mia è forse prima una petizione di principio e poi un invito all'impegno, perché questo non accada, io dico sempre, torniamo a Papa Francesco, perché l'unica figura lucida in questo periodo drammatico per il mondo, mi sembra lui, nel reclamare proprio la condanna di tutte le guerre, la cessazione della produzione delle armi, perché se uno produce le armi, poi le armi servono per essere rinnovate, qualcuno si deve comprare gli arsenali obsoleti per usarli in qualche modo, il modo si sa come si usano gli arsenali bellici. Quindi, ecco, nel suo denunciare che non si può raggiungere la pace con la guerra, il Papa probabilmente è il più lungimirante di tutti, perché oggi c'è in giro tanta di quella potenza bellica che basterebbe che uno sciagurato, come tanti leoni da tastiera, oggi scrivono magari sui blog, pigiasse il bottone e sarebbe un po' la fine probabilmente dell'umanità. E allora questo, diciamo, deve essere uno scenario di impegno civile prima ancora che di preparazione tecnica. Ecco, con questo incipit io vorrei appunto passare agli argomenti che cerco di mettere in fila, dunque abbiamo detto c'ho due ore Vanessa, un'ora e mezza mi pare, vero? Sì, sì, ma lei parli, c'è un'ora e mezza piena, piena. Flessibile. Io vorrei seguire un po' lo schema che ho seguito nel commentario che sto facendo alla Costituzione organizzato dall'amico Lorenzo Dell'Ipriscoli che è uno specialista di queste pubblicazioni di diritto costituzionale che è appunto dedicato all'interdipendenza dei principi economico-finanziari con i principi sociali e tutto incentrato naturalmente anche sul parallelo di quello che accade nella legislazione e giurisprudenza globalizzata e quello che accade in Italia. Quindi quando mi vedete guardare qualcosa sto guardando l'indice di questa pubblicazione che speriamo di riuscire a terminare perché oramai è diventata la mia tela di Penelope. Tela di Penelope perché ovviamente quando si fa una pubblicazione a questo livello bisogna stare molto attenti alla bibliografia e non può essere una bibliografia citata a rampazzo ma citata secondo quello che dicono gli autori e messa in fila in rapporto anche al pensiero che si sta esprimendo. Se fossi stato esentato ma non sarebbe stata una pubblicazione seria dalla redazione delle note io avrei finito circa un anno fa questo lavoro e invece purtroppo continua. detto questo ho continuato a parlare troppo forte quindi cercherò di rallentare per evitare un nuovo cicchetto di Giovanna e a questo punto passiamo effettivamente al tema. Non so Vanessa se contemporaneamente vogliamo coinvolgere qualche studente volenteroso nel fare domande o riflessioni magari trattato un punto un argomento io posso dire se qualcuno vuole esprimere e quindi le esaminiamo in contraddittorio anche per evitare quella noia che prende sempre quando c'è un oratore solo insomma. Secondo me possiamo fare così potrebbe fare lei il suo inquadramento sull'Europa la Corte dei Conti il perché quello che aveva iniziato a fare e poi passo la parola a te anziché e poi dopo gli facciamo fare qualche domanda perché in realtà in questo corto che è un ottimo corto abbiamo secondo me una pecca che nessuno ha inquadrato un pochino perché il senso del controllo che cos'è il bilancio e anche il rapporto con il bilancio europeo le risorse c'è una lezione un'ora di inquadramento un pochino generale su questi temi che sono quelle che le sue lezioni che io ho avuto la fortuna di sentire più volte se anche gli studenti la potessero sentire sarebbe secondo me un inquadramento generale e poi li facciamo parlare Sì, sì, arrivare dall'Europa nel tempo Maria Teresa che dovrebbe essere lì presente insieme a me ha sperimentato alla SAF proprio questo metodo però effettivamente lì c'erano i neoreferendari freschi di studi e quindi diciamo il dibattito che si è svolto intorno ai relatori del tema era un dibattito molto informato di fresco perché chiaramente i vincitori del concorso sono hanno superato già delle prove difficili e quindi sono informati primo o secondo anno di università quindi dovrebbero in realtà perfetto però rispetto a noi hanno la mente più fresca flessibile e meno condizionata quindi questo è un punto importante bene dicevamo che nella fatemi trovare nel mio schema che però non trovo troppi documenti aperti bene praticamente i diritti sociali e il pareggio di bilancio hanno portato una profonda evoluzione nella nella corte proprio nell'ordinamento costituzionale ma non solo dell'Italia infatti il mio primo paragrafo è intitolato diritto del bilancio e diritti sociali nella prospettiva costituzionale europea e nazionale perché nella prospettiva costituzionale possiamo considerare anche il trattato non si chiama costituzione europea per i ben noti motivi storici che voi sicuramente conoscete ma comunque è considerato un ordinamento costituzionale e e quindi in questa vicenda si pone un primo problema quando i padri costituenti fecero la costituzione italiana erano ben ben sicuri che quello era il documento di vertice il patto sociale delle forze che erano uscite vincitrici o forse avevano salvato l'onore nazionale dopo la barbarie delle leggi razziali e quant'altro e quindi era un patto sociale in cui le tre grandi forze che possiamo individuare appunto nelle forze cattoliche nelle forze liberali e nelle forze socialiste i relativi partiti e personalità cercarono di trovare nelle loro nei loro principi degli elementi comuni da valorizzare con enunciati sintetici e mettere da parte le differenze che dovevano essere differenze da lavare attraverso il consenso elettorale attraverso i parlamenti attraverso la fiducia che gli elettori attivi e passivi nell'ambito del nuovo patto sociale riuscivano a trasmettere ai loro rappresentati quindi avevano pensato un documento ed è il suo pregio maggiore che pur essendo rigido soltanto con una rivoluzione involutiva si potrebbero cancellare valori come la tutela della persona l'eguaglianza formale e sostanziale la rappresentanza democratica ecco soltanto con una rivoluzione si potrebbero togliere ma questi valori base sono anche flessibili nel senso che sono aperti a quella evoluzione sociale direi culturale prima ancora che sociale che passa negli amministrati la storia passa ci sono grandi personalità ci sono delle pronunce della giurisprudenza che sono grandemente innovative ma la stessa giurisprudenza per essere veramente innovativa deve cogliere dalla società civile i frutti di questa positiva evoluzione e quindi diciamo rigida nei meccanismi duri che ne precludono la modifica dei fondamenti principali ma flessibile all'evoluzione interpretativa e ai contenuti interpretati dei vari precetti prendiamo un esempio quando fu fatta la costituzione le donne non potevano accedere in magistratura non solo in magistratura ma non potevano sicuramente accedere in magistratura l'ordinamento universitario in teoria lo permetteva ma come probabilmente tanti professori Giovanna è troppo giovane ma altre professoresse subirono questo diciamo discriminazioni insomma preferivano essere utilizzate come angeli del ciclo stile si potrebbe dire piuttosto che come protagonisti alla pari dell'evoluzione culturale scientifica ma nella magistratura le donne non potevano entrare oggi sono più le donne complessivamente in magistratura che gli uomini ed è un trend che continua ad aumentare sono più le donne che vincono questi concorsi che gli uomini mi permetto di dire che mediamente gli elementi femminili mi sembrano superiori a quelli del mio sesso oggi come oggi mediamente perché poi ogni persona è se stessa e quindi questa cosa da chi fu ribaltata? Fu ribaltata da una famosa sentenza della Corte Costituzionale che dichiarò in Costituzionale la preclusione dell'accesso anche perché qui si trovarono delle donne che ebbero il fegato di sfidare l'ordinamento e di proporre la questione davanti a un tribunale che a sua volta poi lo mandò in Corte Costituzionale come incidente altre donne ci avevano provato ma i loro tribunali non avevano ritenuto rilevante la questione e questa non era venuta all'esame della Corte Costituzionale quindi vedete quello che vi sto dicendo non è pura teoria la nostra Costituzione è stata in grado attraverso la lettura evolutiva del ruolo della donna nell'ambito professionale praticamente ha capovolto le leggi che pure erano state considerate fino ad allora costituzionali le ha capovolte le ha ridisegnate le ha modificate le ha modificate attraverso varie tecniche che se avremo il tempo vedremo varie tecniche decisorie ma tutte mirate a fornire un quadro aggiornato all'evoluzione culturale e quando come a partire dagli anni settanta è cominciata la fortissima influenza del diritto comunitario ma anche del diritto globalizzato questo processo ha inglobato anche il portato della legislazione e della giurisprudenza per così dire multilivello quindi un giudizio di costituzionalità che sembrava quasi automatico all'inizio non sembrava quasi automatico ai grandi come Crisafulli Sandulli Mortati i quali già vedevano in nuce la possibilità di quello che è successo dopo ma la maggior parte degli interpreti vedevano il giudizio costituzionale quasi come un giudizio automatico tant'è vero che nella famosa diatribba tra costituzionalisti e civilisti ecco si faceva notare che il diritto civile era sotto il profilo ermeneutico sotto il profilo interpretativo molto molto più complesso dello stesso diritto costituzionale oggi non si potrebbe più dire perché le variabili che vanno ad impattare sul giudizio di costituzionalità praticamente possono sono non dico infinite ma sono centinaia migliaia se andiamo a fare proprio un'analisi microsettoriale delle norme che possono finire davanti alla Corte Costituzionale e l'incrocio con i precetti costituzionali e voluti rispetto alle quali se ne può chiedere la giustiziabilità io cerco di parlare piano però questi termini di usarli in modo chirurgico quindi proprio nel loro senso etimologico e quindi cosa è successo che praticamente l'unione è andata col vento in poppa almeno fino a quando c'è stato l'allargamento massiccio finché sono entrate la Grecia il Portogallo la la Spagna il le le problematiche di unificazione della legislazione diciamo le problematiche di una unificazione in progress non erano particolarmente problematiche si trovava decisamente un punto d'incontro la situazione però è drasticamente mutata quando si è deciso con una mossa che probabilmente non è stata tra le più illuminate sento dei rumori che voi vi sentite? la sentiamo benissimo commentavamo anche la Presidente Porto diceva l'Europa 15 andava bene l'Europa 28 inizia 27 scrittola un po' quindi noi commentiamo in realtà e se lo dice Maria Teresa che in Europa c'è stata quando aveva i calzoni corti praticamente bisogna crederci a questo e quindi praticamente l'allargamento ha portato dei fenomeni centrifughi perché da un lato già erano apparsi dei problemi tra il modo tra il punto di vista diciamo dell'Europa dell'Europa del Nord rispetto ai paesi dell'Europa del Sud rispetto a Italia a Portogallo a Spagna e Grecia diciamo le democrazie del Nord erano fin dall'inizio più attente a difendere gli equilibri di bilancio e a limitare gli interventi solidali attraverso prestiti contributi nei confronti delle altre ma era un problema come posso dire di bilanciamento ma non era un problema ontologico ma quando sono entrati una serie di paesi affamati permettetemi di dirlo tra virgolette cioè affamati di risorse per colmare il terribile gap delle condizioni sociali che avevano e hanno tuttora nei confronti di quelli dei paesi europei tradizionali senza contare le diverse tradizioni perché per esempio la cecoslovacchia anzi la repubblica cieca e l'ungheria erano già mitta l'europa ma parlare della bulgaria della moldavia dell'ucraina che vorrebbe entrare adesso invece entriamo proprio in culture in territori e in tradizioni completamente diverse ma dicevo questa era soprattutto fame di contributi e lì andiamo a toccare un altro punto che l'Europa uno dei punti deboli della Costituzione europea il trattato sia il tuo che quello sul funzionamento è praticamente quella di avere previsto una rigorosa e vincolante disciplina della spesa ma non dell'entrata ma non fiscale e non sociale per cui da un lato i paesi ogni riferimento all'Olanda al Belgio al Lussemburgo non è casuale i paesi che hanno lasciamo perdere la Gran Bretagna che probabilmente non ha mai fatto parte convintamente di questa Europa ha sempre cercato per lei delle regole speciali ma lasciando perdere la Brexit la Gran Bretagna e tutto il resto certamente c'è questa differenza profonda con il modo questa non differenza profonda questo vuoto di regolamentazione della bilancia commerciale lasciatemi usare questo termine cioè del dare avere dei singoli stati nei confronti dell'Unione gli stati più deboli come l'Italia hanno sempre avuto fino all'allargamento un saldo positivo tra risorse date all'Europa e risorse avute ma dopo la situazione si è progressivamente invertita gravata dal fatto che poi l'Italia ha subito una serie di recuperi per non avere utilizzato regolarmente le risorse avute ma diciamo la cosa si è invertita soprattutto perché è arrivata una pletora di paesi poveri i quali hanno alterato verso il basso il piatto delle uscite europee e mancando criteri specifici è chiaro che tutti i paesi che venivano penalizzati da questo nuovo fenomeno hanno cominciato a criticare l'Europa e sono emersi i cosiddetti sovranismi sovranismi che in realtà sono pericolosi come tutti sanno perché vedono un paese richiudere di nuovo le frontiere e valutare le cose soprattutto in base all'interesse statuale piuttosto che quello delle singole persone ma accanto a questo fenomeno che ha riguardato appunto gli stati c'è anche un fenomeno che ha riguardato le popolazioni perché l'Europa mano a mano che siamo andati avanti si è allargata troppo nella propria burocrazia e ha liquidato una serie di regole di regolamenti di di direttive su aspetti marginali sotto il profilo strategico dell'unità ma importanti sotto il profilo commerciale le famose specifiche tecniche dei prodotti dei prodotti e quindi alla fine si è cominciato a discutere del diametro dei ceci dei fagioli e quant'altro piuttosto che sulla opportunità di favorire la conservazione di tradizioni agricole e la valorizzazione di queste tradizioni agricole nell'ambito proprio di un'unità europea pluralista e poi anche sulle acque questo si vede perché le regole sull'arsenico nell'acqua sono state varate soprattutto sulla base delle esigenze dei paesi del nord dove le industrie per un certo periodo sversavano grandi masse di arsenico dentro i corsi d'acqua e pregiudicando quindi la qualità dell'acqua mentre per esempio in altre zone cito il viterbese perché è la mia zona ma potrei citare i castelli romani potrei citare i campi fergrèi eccetera ci sono delle zone dove il vulcanesimo praticamente lascia automaticamente tracce di arsenico a cui i fisici dei residenti si sono abituati storicamente da millenni di anni quindi l'arsenico del nord è un arsenico diverso da quello delle nostre zone eppure ha la stessa regolamentazione l'Italia scarpe grosse e cervello non fino che cosa si è inventata in questa materia anziché cercare di valorizzare a livello di legislazione le differenze ha fatto le ha cercate di aggirare quindi in alcuni periodi ha alzato gli standard di tolleranza essendo fulminata giustamente poi dalla giurisprudenza europea e nazionale e ha trovato altri marchi ingegni di come posso dire di sviamento anziché di affrontare affrontare il problema quando l'Italia ha affrontato questi problemi a viso aperto l'Europa ha dovuto ha dovuto in qualche modo prenderne atto io ricordo quando quel famoso Natale quando grazie al presidente Mattarella e al premier in carica allora che era Conte ci fu una transazione serrata in sede europea sul calcolo del deficit del bilancio che segnò una grande vittoria dell'Italia che per la prima volta si trascinò presso paesi come la Francia la Spagna il Portogallo in una richiesta di contraddittorio vero reale sulla sulla giustezza chiamiamola così delle regole che allora vigevano purtroppo prima e anche dopo l'Italia si è spesso distinta per i tentativi di aggiramento prima appunto del del 2012 del fiscal compact l'Italia esisteva comunque il patto di stabilità e in Europa vigeva questa frase che i francesi e i tedeschi avevano violato le regole del patto di stabilità sfondandono mentre l'Italia aveva imbrogliato sul patto di stabilità ecco è chiaro che quando uno si fa una reputazione negativa e poi ci vuole molto per lasciarsi dalle spalle e invece l'Italia probabilmente non ci ha guadagnato niente in quell'imbroglio perché poi come si vede dagli andamenti economici i paesi che hanno in qualche modo approfittato delle aperture qualche volta anche appunto interpretando la legge in modo per loro favorevole sono riusciti ad avere della crescita migliore di quella nazionale e altro punto in cui l'Italia non è stata in grado di incidere è stata quella del calcolo del prodotto interno lordo che come sapete è il driver il denominatore dei calcoli che si fanno sullo stato di salute delle economie dei paesi membri nel PIL ci sono soltanto determinate categorie che sono state praticamente decise dalla commissione in prevalenza attraverso il proprio dipartimento Eurostat è che l'Italia pur contestando in astratto non è mai riuscita ad integrarle attraverso un contraddittorio per esempio le potenzialità turistiche dell'Italia non sono state giustamente considerate così come non sono state considerate ricchezza alcuni accantonamenti in materia previdenziale che invece l'Italia magari fa figurare come oneri passivi e largizioni che vengono fatte ai pensionati pubblici non è così per vari motivi io ho scritto su questo c'è un bellissimo libro curato dal professor Maurizio Cinelli della Giappichelli nella quale una serie di autori tra cui molti magistrati della Corte dei Conti dimostrano come effettivamente questa storiella della regalia ai pensionati pubblici è in realtà una favola perché andando a vedere tutta la storia contributiva di chi oggi percepisce le pensioni si vede che forse lo Stato ha dissipato il valore dei contributi storicamente incassati piuttosto che diciamo valorizzati gli stessi anche qui ci sono delle pronunce della Corte per tutelare i soggetti i soggetti pubblici della Previdenza ed è il filone giurisprudenziale delle casse autonome quelle casse che nel 1990 ebbero praticamente attraverso una legislazione paracostituzionale ebbero l'obbligo di vivere in equilibrio e in Parigio cioè calcolando il rapporto tra contributi e prestazioni in modo tale di non andare mai in squilibrio con la penalità dello scioglimento exabrupto nel caso di deficit non sanabili e soprattutto attraverso il divieto di godere di contributi dello Stato è stata dichiarata in costituzionale una norma dello Stato che prevedeva un efficientamento della spesa nel senso di dedicare la spesa i risparmi di spesa corrente non alle spese generali ma alle diciamo alle spese funzionali ma in costituzionale della parte in cui lo Stato poi si impadroniva addirittura attraverso una compensazione figurativa nemmeno dopo un rendiconto del risultato di questa efficientazione si impadroniva di determinate somme all'origine cioè addirittura sulla contribuzione dei che veniva versata dai soggetti di contribuzione appunto dei soggetti appartenenti alle casse autonome e in quel caso la Corte ha detto che l'articolo 97 come novellato dalla riforma 1 del 2012 andava interpretato nel senso che lo Stato per garantire l'equilibrio della finanza pubblica allargata non può assolutamente pregiudicare la finanza dei soggetti componenti tra cui appunto le casse autonome la finanza pubblica allargata perché in questo caso la soluzione sarebbe irrazionale sperequativa ingiusta e violativa anche dei principi sociali connessi appunto alla sicurezza previdenziale e soprattutto in contrasto anche con gli articoli 36 e 38 della Costituzione che vedono una tendenziale vicinanza dell'ultimo stipendio goduto dai lavoratori prima della pensione ecco questi sono interventi specifici che la Corte Costituzionale ha potuto assicurare ma questi valori non erano e non sono nel trattato e non sono nemmeno nelle regole convenzionali come quelle del Fiscal Compact della stessa Convenzione Edu perché là effettivamente questo rapporto tendenziale tra ultima retribuzione e prestazione non è proprio previsto anzi addirittura la Corte Edu è arrivata ad affermare nelle famose sentenze Stefanetti e Stefanetti bis che in fondo una riduzione non superiore al 50-55% del percepito dal pensionato può essere per finalità diciamo di solidarietà di bilancio cioè che vanno a confluire direttamente nel bilancio dello Stato può essere diciamo tollerabile è una follia una una regola di questo genere tant'è vero che poi nella stessa sentenza accanto a questo enunciato poi ci sono delle condanne dello Stato italiano a rimborsare le spese processuali e la perdita subita da questi soggetti dal momento della riduzione anzi dal momento in cui hanno iniziato la causa fino al momento della sentenza ma la cosa la cosa incredibile è che per il futuro si rimettono alle politiche di bilancio degli Stati membri che sono intangibili per la Corte Edu e allora capite bene che qui c'è una contraddizione se ti rimborso quello che ti ho tolto indebitamente fino a una certa data poi non posso dire che c'è un'autonomia discrezionale dello Stato membro nel togliertelo per il futuro quindi tutta una serie di enunciati abbastanza retorici ma che nella sostanza spesso provocano confusione ecco questo la Corte Costituzionale con quella sentenza ce ne sono anche altre per esempio le sentenze sulle pensioni svizzere sono state criticate giustamente perché vanno su un altro filone però diciamo la sentenza 7 del 2017 se non vado errato della Corte Costituzionale diventa una pietra miliare proprio nel fatto che sceglie la tutela la garanzia del singolo pensionato rispetto ad un preteso interesse generale dello Stato a far cassa con questo prelievo virtualmente determinato ecco questo è un punto molto molto importante e dicevamo di questo non so siccome adesso passo ad un argomento un po' più difficile Vanessa non so se è il caso di recepire qualche domanda anche tua su quanto abbiamo detto fino adesso perché poi vorrei parlare del tema delle condizionalità interne ed esterne all'Europa sull'economia e sui diritti sociali e qui è un po' più complesso il discorso forse è meglio chiarire qualcosa che non sono riuscito a chiarire prima dov'è Vanessa Vanessa io non ti sento ha ragione perché avevo chiudo il microfono che parlavo non stavo intanto chiedendo se ci sono qualche domanda da parte di qualche anche qualche curiosità nel senso comunque la prima lezione cioè una delle poche lezioni dove siamo partiti un pochino da un inquadramento storico giuridico sia del trattato sia dell'evoluzione che queste hanno avuto e abbiamo iniziato a fare un acceno su come poi il cambiamento importante del fiscal compta ha poi portato all'interno della nostra Costituzione alla modifica dell'articolo 81 quindi in realtà sono tutti congetti che solamente un pochino nella lezione di ce l'hanno sì ce l'hanno e non ce l'hanno forse perché un pochino da diritto pubblico e forse nella lezione di Laura e Francesco però in realtà il Presidente Carodi l'avvise molto da un'altra angolazione richiamando le sentenze della Corte Costituzionale quindi non lo so mi domando molti di voi se hanno capito anche quali sono gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale perché il Presidente ce l'ha detto già sul piatto quindi qualche curiosità non vi è venuta qualche domanda su questi temi nessuno? Non abbiate non abbiate paura perché le domande più ingenue spesso sono quelle più interessanti una domanda vieni qua così il Presidente vede anche un po' di roventù e è contento ma poi ne terrete conto di questa perché uno che affronta l'uditorio con una domanda è comunque un segno anche io mi sono data buongiorno prego buongiorno e lei ha parlato di Alessandro Federico presentatevi sempre frequento Scienze Politiche sono del primo anno lei precedentemente ha parlato di un allargamento progressivo degli stati membri dell'Europa e di conseguenza volevo chiederle se apparentemente questa questa un po' tranquillo tranquillo tutto il tempo che si serve per ragionare si e fondamentalmente volevo chiederle se questo aumento progressivo degli stati membri ha portato un reale vantaggio infatti come come ti dicevo prima e come diceva la presidente Polito di rincalzo l'ultimo allargamento quello che aveva portato a 27 stati è stato probabilmente un grave errore anche perché abbiamo ingenerato in queste popolazioni meno fortunate l'illusione che sia arrivato Babbo Natale o la Befana quello che preferite con tutti i doni e cioè arrivano arrivano i doni vogliamo tutti entrare là dentro e sicuramente avremo avremo dei fondi ma la realtà tutti ci insegnano che non è così Keynes che è un po' il nostro riferimento in termini di macroeconomia diceva che questo processo deve essere graduale e tutti gli investimenti non possono essere a fondo perduto la maggior parte degli investimenti dovrebbe essere fatto attraverso investimento attraverso indebitamento anche agevolato anzi soprattutto agevolato ma un indebitamento per gli investimenti che dovrebbero costituire un valore quantomeno pari al debito che si accolla quella comunità per crescere ecco quindi non possiamo far credere a queste popolazioni l'impossibile la cosa che più mi colpisce perché io conosco bene molto bene la situazione dell'Ucraina è che mentre le popolazioni agricole che sono abituate all'alea economica del sole della pioggia della grandine della neve capiscono che non può arrivare Babbo Natale e darti la frutta il grano eccetera non lo capiscono le popolazioni di fresca inurbazione se uno va nelle zone per esempio accanto al VIV che sarebbe la dicitura Ucraina di Leopoli ecco uno si rende conto che c'è una massa di popolazione che è convinta che le aspetti tutto perché hanno ricevuto servizi e miglioramenti economici maggiori di quelli delle campagne ecco per esempio quelli che emigrano in Italia i figli e parenti dei contadini in genere attraverso magari l'attraversamento delle frontiere con i camion i furgoni eccetera mandano contante ai loro ai loro che lo impiegano nei lavori della terra che lo impiegano magari per comprare bestiame eccetera nelle città questo è diverso perché magari lo impiegano nel gioco o in altre attività o anche attività culturalmente valide per carità teatro danza e quant'altro che peraltro ci stanno anche nelle zone rurali perché lì c'è proprio una tradizione artistica e quindi questo dà la dimostrazione di come la realtà non è quella che ci viene propagandata di idee monolitiche di persone che hanno deciso di entrare nella democrazia occidentale loro fanno questa equazione entro nell'unione e ottengo dei fondi se l'unione non glieli dà ecco le reazioni e qui c'è un altro problema che dimostra come la situazione sia in questi termini molto ambigui che la corte di giustizia si è pronunciata contro la Polonia sostenuta col voto contrario proprio dall'Ungheria e dalla Romania se uno va a vedere la posizione di questi paesi nello scattiere della guerra ucraina vede che Polonia e Ungheria sono contrapposte ma il loro sovranismo perché era la questione dei migranti che loro si rifiutano di accogliere la quota di migranti programmata ecco su questa vicenda vanno allineati e coperti ora nel calcio il mitico Fascetti parlava di casino organizzato e qui non lo so se è un casino organizzato ma sicuramente è un caos perché c'è una serie di variabili talvolta talvolta sinergiche talvolta antagoniste che non sono gestibili né dall'Unione né dai paesi membri se non arriverà un sostanziale rispetto delle regole perché finora l'Unione ha colpito con le sue sanzioni i paesi consenzienti come l'Italia ma non è riuscito a farlo con i paesi ribelli dell'Est cioè non è riuscita a imporre magari riducendo contributi e quant'altro queste sue politiche e un ordinamento se non ha il momento della cogenza praticamente non è un ordinamento ecco perché rispetto alla tua domanda io sull'Europa attuale sono abbastanza pessimista però l'ottimismo della volontà soprattutto di voi giovani deve essere la consapevolezza e portare nelle serie opportune per prime quelle politiche perché diciamocela tutta io non ho pregiudizi con nessuno dei partiti dell'arco costituzionale anzi mi sembra che i loro linguaggi si assomigliano drammaticamente però anche loro hanno dovrebbero avere ma in fondo hanno anche l'interesse di avere menti pensanti dentro di loro elementi che li riportino pian piano a una tradizione culturale più antica e più elevata però è anche vero che i giovani vedendo questi giochetti perché i giochetti li vedete ecco la tua domanda è emblematica del fatto che le cose non vanno bene i giovani tendono a ritrarsi dalla politica per non sporcarsi le mani cosa che probabilmente ha le sue ragioni profonde certo una rondine non fa primavera se un giovane ha anche un'idea geniale da solo non riuscirà nemmeno ad essere ascoltato ma se si creano dei movimenti praticamente questo potrà essere uno dei movimenti che invece è stato terribilmente deleterio per per l'Unione Europea è stata quella delle lobbying cioè legittimare le associazioni commerciali industriali e gli stessi think tank che ne sono sorti a bizzeffe nel interferire nelle procedure normative sia di primo che di secondo livello dell'Unione il mio prodotto è migliore su questo apriamo la concorrenza qui non si può aprire ecco e tutte queste cose chiaramente hanno portato non la cura dell'interesse generale ma la cura dell'interesse egoistico che tende a chiudere o ad aprire il mercato nella misura in cui fa comodo a quell'operatore o a quella classe di operatori piuttosto che diciamo alle comunità soprattutto quelle locali amministrate le quote latte ma viva Dio ma è possibile che in Italia adesso devono sorgere delle piccole società come funghi per aggirare i permanenti divieti aggirare no aggirare per aggirare legalmente i divieti sulle quote latte perché l'Italia ha avuto quei limiti ma sono limiti imposti a produttori oltre una certa quantità ma adesso vediamo che c'è tutta una serie di produttori minori che non sono vincolati agli stessi controlli degli altri quindi diventa un problema quali quantitativo e le quote latte a noi ci hanno svergognati in Europa e hanno anche prodotto delle immagini terribili come quelle dell'autostrada quando praticamente ci fu quella famosa doccia sulle macchine e quindi ecco sono tutte questioni per esempio la scelta dell'Italia di abbandonare l'agricoltura ma quando mai l'elettore italiano ha approvato questa scelta qui c'è un deficit di democrazia clavoroso io che purtroppo ho i capelli bianchi ricordo negli anni 70 la desolazione dei contadini dei castelli romani che vedevano abbandonati terreni destinati a vigne ed olivi soprattutto vigne perché praticamente il taglio di questi olivi veniva finanziato dall'Unione Europea e rendeva molto di più di come il prodotto svalutato perché non più strategico veniva veniva ad essere remunerato sul mercato queste sono ferite che vanno sulla genetica culturale di un popolo non è che all'improvviso diciamo per ricreare una classe contadina in Italia cosa che comunque per fortuna si sta in qualche modo valorizzando mi pare Maria Teresa che nel Piemonte pure ci sono iniziative molto interessanti per ricreare queste classi imprenditoriali contadine ci vorranno anni e anni per distruggere sono bastati i 4-5 anni dei primi contributi che venivano erogati anche sulle vigne hanno fatto la stessa cosa sulle vigne sulle vigne io parlavo delle vigne gli oliveti gli oliveti è una storia ancora più complessa perché c'è la xylella e tutto quello che le vigne è stato deliceo ma sulle vigne è stato veramente un genocidio di una cultura agricola insomma capito è proprio lì io infatti dicevo a Maria Teresa mi sembra che nel Piemonte è proprio sui vigne che ci sono ci sono delle zone ovviamente di cultura controllata anche di origine controllata però stavo dicendo che c'è secondo me anche un altro attentato da valutare che è quello dei terreni agricoli che vengono dati per il fotovoltaico perché sono molto più semplici e molto più remunerativi modificando notevolmente sia il profilo della cultura agricola e della diciamo mentalità rispetto allo sviluppo di un'attività veramente per l'Italia molto importante anche alla luce di quello che è successo con il Covid con la guerra e con tutto quello che arriva che dovrebbe arrivare dall'altra parte rispetto per esempio a produzioni che per noi in passato negli anni 70 che tu citavi produrre grano era diciamo non certo in Piemonte però diciamo nella regione d'Italia sicuramente era una produzione sufficiente comunque valida poi è stata abbandonata perché i costi erano molto alti rispetto ad altri grani che arrivavano da altre culture che arrivavano da altri paesi e diciamo il fotovoltaico perché? perché in realtà vengono offerti prezzi molto elevati per l'acquisto di terreni liberi per impiantare il fotovoltaico il fotovoltaico dovrebbe essere anche per direttive europee soggette a una definizione di un quadro territoriale in zone già compromesse per cui tu non intacchi né il paesaggio perché a quel punto ruvini due cose l'agricoltura e anche il paesaggio soprattutto tu parli del Piemonte Piemonte come anche altre realtà territoriali la Toscana ha molte colline quindi la collina è un paesaggio particolare molto pregevole dal punto di vista della cultura anche della vista quindi tu in realtà colpisci in questo modo per un fatto economico perché in realtà l'agricoltore ma anche lo sfruttatore ha un maggiore interesse a sfruttare un terreno libero piuttosto che andare in un terreno compromesso su cui deve fare dei lavori quindi diciamo lì poi è chi amministra il territorio che dovrebbe avere una sensibilità prospettica e purtroppo non sempre gli interessi economici vanno di pari passo con gli interessi di prospettiva che riguardano le generazioni future e anche le attività future perché l'agricoltura significa fornire alle nuove generazioni anche un processo che è in evoluzione cioè l'energia rinnovabile è molto importante ma non è che si sta dicendo non la si fa ma la si fa in altri luoghi e quello che io voglio sperimentare che proprio ve ne avrei parlato col PNRR c'è un rischio enorme che è quello di facilitare perché in realtà la modifica delle fonti rinnovabili è un fatto importantissimo anche ai figli ambientali ma la scelta dei luoghi è anch'esso un fatto importante allora l'inserimento nel PNRR di queste contribuzioni facilita i procacciatori di affari che sono concessionari diciamo a pezzi a questo genere di trattative di fornire di proporre ai comuni quello che è stato per esempio con i derivati cioè vai lì gli dai un guadagno semplice e quindi alla fine si crea per il singolo proprietario ma anche per il comune una serie di impegni che poi non finiscono lì perché noi abbiamo intercettato proprio nel nostro controllo una serie di attività che hanno determinato poi l'esigenza di fare dei prestiti per costruire gli impianti prestiti che poi sono stati onorati dai comuni quindi diciamo una serie di problematiche ulteriori legate anche al fatto che i concessionari diciamo non sempre vengono controllati adeguatamente da chi ha una missione pubblica come possono essere le entità perché sono comuni di piccole dimensioni quindi diciamo i problemi spesso sono molto e poi Maria Teresa mi fa venire in mente un'altra cosa che in territori omologhi confinanti quelli francesi tutte queste condizionalità non ci sono e quindi praticamente i nostri operatori subiscono una discriminazione fondamentale sotto Aldo io sono reduce da un parallelodit che stiamo impiantando con i nostri vicini francesi per quanto riguarda la regione di Lione perché il Piemonte è abbastanza vicino a tutta quella zona lì beh io ti devo dire che noi ci lamentiamo sempre delle riforme ci lamentiamo sempre delle potenzialità che noi abbiamo devo dire che loro per lavorare sugli enti locali che hanno crisi diciamo dal punto di vista finanziario devono aspettare il prefetto che gli ha i segnali quindi voglio dire lì poi diventa un altro problema di interessi per cui diciamo tu non intervieni in prima battuta come possiamo fare noi quando facciamo dei controlli ma devi aspettare uno che te lo segnala se quello non te lo segnala tu non hai questo potere non lo puoi esercitare quindi unito al fatto delle regole che dici tu diventa una situazione anche molto più libera nella gestione del singolo del singolo operatore su altre cose noi siamo di una lentezza esasperante prendete la TAV noi abbiamo diciamo vabbè abbiamo tutti i problemi ambientali non è stata gestita o adeguatamente con le popolazioni perché queste iniziative così aggressive sul territorio vanno gestite anche prima di avere i fondi cioè si può fare o non si può fare perché quando poi sono arrivati i fondi e viene fuori un problema comunitario perché tu hai preso un impegno poi devi restituire questi fondi poi Maria Teresa scusami poi ti rifiuto la decisione finale io scusa volevo solo aggiungere questo che siamo in Italia si parla di questo famosa Lione-Chiev come una questione recente ma io ricordo che nel 2001 era già stata approvata da qualche anno proprio in Europa questa linea come una linea strategica per il Piemonte orientale quindi è una follia quello che è accaduto dopo sì diciamo che noi abbiamo degli amministratori tra virgolette illuminati che decidono un bel giorno che va fatta una certa cosa fanno tutta questa costruzione operano diciamo anche mettendo in moto meccanismi che affrontano il confronto con altri paesi in questo caso con l'Unione perché la TAP è un progetto europeo diciamo cominciano a prendere le anticipazioni impiantano il cattiere e poi si accorgono che c'è la popolazione che non è d'accordo allora tutte queste operazioni vanno fatte a monte non a valle comunque diciamo va beh questo è una delle particolarità e in quel caso specifico la parte francese io sono andata con la corte dei conti europea sul posto ho fatto dei sopralluoghi la parte francese era ovviamente uno stadio più avviato rispetto al nostro quindi con una spendita maggiore perché? perché c'erano stati blocchi e noi abbiamo un altro problema su quel cantiere che se voi considerate diciamo la spesa e per il bilancio non è irrilevante loro sono costretti per i continui attacchi da parte dei nodar ad avere un presidio costante di 20-30 diciamo forse dell'ordine durante i turni perché continuavano con la ripresa con il giubbotto antiproiettile c'è sempre una scemenza ma è così perché fanno aggressione sparano cioè capita di tutto allora peraltro poi avendo parlato non abbiamo anche parlato con i sindaci poi qua chiudo perché non c'entra granché però diciamo tanto per dirvi che poi non tutti i progetti sono diciamo europei sono senza problemi oppure diciamo producono sempre quell'effetto in un arco temporale noi abbiamo comunque in generale un merito che è quello di far durare i lavori un'enormità tant'è vero che nell'arco temporale una programmazione europea dura 7 anni da calendario ma in realtà 10 anni noi in 10 anni non riusciamo a fare questo è stato proprio regolamentato non riusciamo a fare un lavoro che superi 5 milioni di euro perché non siamo in grado di assicurare una temporizzazione alle varie fasi adeguata per portare a compimento un'azione di questo tipo cosa diversa da altri paesi tant'è vero che per esempio la Spagna con i fondi europei si è rifatta tutta le infrastrutture ferroviarie e ha un sistema di infrastrutture ferroviarie che secondo il terzo d'Europa l'Italia c'ha Calabria Sicilia Basilicata Sardegna assolutamente senza una strada viaria ma ora vogliamo fare il ponte di Messina c'è il punto sullo stretto c'è il punto sullo stretto quando ci manca ad arrivare lì perché noi per arrivare da quelle parti abbiamo dei problemi seri quindi voglio dire le nostre scelte programmatorie sono molto ma Teresa ma anche se superi il ponte poi non c'è le strade tu arrivi a Messina dopodiché basta ecco quindi bisognerebbe prima assicurare che lo sviluppo di un paese è legato essenzialmente alla ferrovia e alle strade perché tu con la ferrovia fai anche diciamo operi con mezzi di trasporto c'è un'altra persona che ci vuole vieterla c'è un'altra ragazza che ci vuole vieni qua scusami così ti vede anche il presidente Carosi io non voglio però rubare la scelta no no ma io sono contento ma io sono contento le chiedo io queste mi chiamo Isabella piacere io volevo chiedere a lei secondo cioè secondo lei qual è il motivo per cui l'Italia non riesce a sviluppare a disfruttare queste risorse come magari riuscita a fare la Spagna questa opportunità allora scusa Aldo vai vai prego no no rispondi tu poi ti rispondo io tanto siamo una sorta perché tu ne hai una io ne ho un'altra la ragazza gli fa piacere sapere tutte e due prima tu prima tu ma diciamo che le cause sono accomodate accomodate o stare in piedi ti devi abituare alla cattedra che poi noi siamo grandi tra poco verremo noi a imparare da te magari all'università della terza età e quindi della quarta della quinta non mettiamo limiti alla provvidenza va bene no a parte gli scherzi effettivamente le cause sono diverse devo dire che in Italia la gestione dei lavori pubblici delle infrastrutture è una gestione che è andata degradando col tempo già nel primo dopoguerra l'Italia aveva ci sono dei libri che sono stati scritti proprio sulla situazione del del Ministero dei Lavori Pubblici che aveva una diramazione sul territorio pari a quella della Corte dei Conti oggi è praticamente anzi maggiore è praticamente loro avevano degli ingegneri dei tecnici capaci di programmare capaci di eseguire controlli capaci di fare opere con grande rapidità la Roma è l'ultima opera che fu fatta in un tempo limitato probabilmente la ferrovia il raddoppio della ferrovia e la stessa autostrada del Sole perché lì andavano coordinati sia coloro che facevano gli espropri per i binari sia quelli che facevano in parallelo l'autostrada infatti si ancora vede ci sono dei tratti dove le cose procedono una accanto all'altra e praticamente gli indennizi venivano pagati c'erano degli accordi premianti per coloro che praticamente accettavano questa maggiorazione e liberavano dalle procedure di esproprio diciamo lente realizzatore quindi c'era questa situazione che andava perché c'erano dei tecnici capaci poi venne la cassa del mezzogiorno in un primo momento la cassa del mezzogiorno ereditò il personale del 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 ministero dei lavori pubblici sia giuristi che che tecnici che in realtà erano da una parte giuristi tecnici e dall'altra tecnici giuristi cioè sapevano tutto di quella materia in modo integrato poi purtroppo a cominciare dagli anni settanta si disse no la cassa del mezzogiorno deve essere delocalizzata in tutti i vari posti e lì cominciò quello che fu chiamato magna magna nel senso che le risorse non arrivavano più c'erano le tangenti c'era la pessima qualità delle progettazioni quelli bravi io posso ricordare Rametta Mazzone uscirono dalla burocrazia e diventarono gli avvocati cultori della materia docenti e insegnavano io ricordo Rametta che era bravissimo lo dovetti sostituire il giorno purtroppo in cui morì per un infarto improvviso e Rametta era uno che sulla progettazione sulle fasi giuridiche tecniche della progettazione era una specie di cronomen registrava i minuti secondi era bravissimo e le amministrazioni ecco i comuni che oggi non sanno più a che santo votarsi andavano ai corsi che venivano realizzati anche da società private per insegnare queste procedure perché c'era la certezza che o imparavi la procedura oppure non la finivi mai e poi c'è stato il vuoto assoluto la Corte Costituzionale ci ha messo del suo con le sentenze contraddittorie quasi tutto a senso unico peraltro contro la parte pubblica in materia di espropri dalla sentenza 5 del 1980 alla 335 di quel periodo a quelle successive ad una ero presente pure io anche se sono andato in minoranza quella di cui fu un redattore il compianto presidente De Sauro ripeto la Corte Costituzionale si è sempre schierata per una visione formale della quantificazione degli espropri che non teneva conto a differenza di altre legislazioni come quelle per esempio del nord Europa che il famoso valore intrinseco del bene il valore di edificabilità che la Corte Costituzionale ha ampliato in modo incredibile in realtà è collegato anche alla pianificazione un immobile dice sì la ferrovia le parti della ferrovia che entrano i terreni della ferrovia che entrano dentro Roma sono molto più importanti di quelli che stanno a sette cammini ma il problema è che lì c'è un vincolo eterno non è che all'improvviso si smantella sì ci sarà magari nel tempo quando le ferrovie saranno sostituite da qualche altro mezzo avveniristico ma intanto quel bene è un bene oggettivamente ipervalutato perché quella ipervalutazione gliele dà la pianificazione e questo in Scandinavia ma nella stessa Francia è sempre stato tenuto presente in Italia no ed allora lentezza delle procedure di esproprio perché poi il legislatore reagiva c'erano i tecnici che andavano dai ministri dice ministro ma a noi tutte le opere ci costano un'ira di Dio e non finiscono mai con i precetti a fermati dalla corte costituzionale e dalla Cassazione per cui succedeva che facevano una legge tampone e la corte costituzionale gliela dichiarava incostituzionale magari dopo 15 anni riaprendo insomma ci sono tutt'oggi delle cause di esproprio che sono partite negli anni 70 e non sono chiuse e in alcuni casi mi corregga la Presidente Polito hanno mandato in dissesto le condanne subite in sede civile hanno mandato in dissesto praticamente lente lente locale e quindi di fronte a questo questa è una delle cause di lentezza l'altra è la progettazione la progettazione ha due momenti fondamentali la progettazione di massima e quella esecutiva prima di procedere all'appalto la vecchia legge del 1895 l'articolo 5 diceva bisognava visitare lo stato dei luoghi e vedere se erano disponibili ed esattamente conformi al progetto altrimenti già si generava la responsabilità del direttore dei lavori oggi di fatto quella norma ci sarebbe ancora è stata abrogata da poco ma nessuno l'ha più fatta valere quindi succede che vengono appaltate dei progetti che sono stati fatti nell'area magari vedendo semplicemente al computer quell'area e invece andando sul posto ti accorgi che ci sono residui industriali residui tossici c'è di tutto su quell'area ma uno non lo sa ufficialmente fino a quando non consegna i lavori consegnando i lavori ed essendoci subito l'incidente perché è chiaro che se tu trovi dei fusti come in Campania o trovi delle scorie radioattive a quel punto devi sospendere i lavori e tutto questo ti porta ti porta un ritardo terribile e non di lato l'impossibilità di finire l'opera a quel punto l'Italia cosa ha fatto ha inasprito la legislazione formale dei controlli oggi per vedere la progettazione bisogna fare il controllo di qualità il controllo di coerenza eccetera manca solo l'articolo 5 purtroppo che è stato di fatto disapplicato il risultato è che le opere non si fanno quando noi raccontiamo queste cose in qualche convegno internazionale che ci sono i francesi gli spagnoli i portoghesi i tedeschi ci dicono ma com'è possibile qualcuno ci ride in faccia e qualcuno dice ma perché vi siete creati questi percorsi e ostacoli da noi ci sono due o tre passaggi fondamentali la progettazione di massima quella esecutiva si chiamano in modo diverso insomma il senso è quello e poi la verifica di fattibilità prima che la ditta prima che si bandisca la gara e subito dopo dopo che la ditta si è impegnata essa stessa ad essere andata sui luoghi la consegna la ditta che rinuncia a far valere qualsiasi pretesa quando uno ha fatto questi quattro passaggi l'opera l'opera o il servizio pubblico è finito e invece succede quello che succede c'è di peggio negli anni settanta uno dei meccanismi di degrado era la famosa concessione di committenza cioè si dava al committente c'è la vicenda del consorzio Venezia Nuova di Venezia che è emblematica si dava ad un soggetto l'incarico di fare tutto poi che cosa che cosa accadeva naturalmente questi prendevano la percentuale pure sulle spese generali quindi la concessione di committenza era un ricarico di spesa pubblica almeno nel 30% ma de-responsabilizzava questi soggetti e a quel punto ci fu la guerra contro le concessioni di committenza l'Europa ci seguì dopo grandi battaglie in sede europee contro l'Italia che faceva ostruzione passò invece il principio della concessione come contratto la concessione è un contratto a prestazioni corrispettive quindi tutte queste ricariche eccetera sono illegittime ebbene alla fine siamo riusciti ad ammorbidire di nuovo la legislazione europea che sulla concessione è diventata molto più molto più aperta e da noi tutti questi affidamenti a cominciare appunto dallo stretto di Messina per finire il consorzio Venezia Nuova che adesso è stato stoppato dai giudici penali non certo dall'amministrazione il fenomeno è ripreso per cui noi troviamo le concessioni che sono di fatto tornate ad essere come le concessioni di committenza insomma l'Italia è un paese di azzecca carbugli in questa materia pericolosissimi i quali praticamente vanno proprio contro l'interesse nazionale ma ci sono delle sacche come posso dire di parassitismo che è difficile estirpare se proprio non si creano prassi etiche diverse io ho detto solo alcuni di questi fenomeni adesso Maria Teresa ne aggiungerà quello che tu dici è sottolineare che da una parte c'è un problema anche a monte della qualità della programmazione che è anche poi il progetto esecutivo ma anche la programmazione degli obiettivi e dall'altro è la temporizzazione correlata in cui noi non siamo non siamo proprio abituati a rispettare il crono programma che facciamo e dall'altra parte è contenzioso che ovviamente ci crea un sacco di problemi l'Italia è certo un posto particolare come profilo anche non culturale ma diciamo anche dei territori moltissimi sono i tracciati in cui ci si imbatte in beni culturali ma anche lì c'è un problema di programmazione i tracciati si conoscono tranne casi rari quindi se si fa un lavoro da tavolino precedente che non è quello da andare lì e di trovare le infrastrutture sul posto questa programmazione può essere facilmente non dico aggirata ma si può deviare ma se tu lo fai in sede di programmazione e di progettazione è un conto ma se lo fai quando il progetto è già stato approvato e trovi occasionalmente che poi occasionalmente non è perché ci sono gli studi in alcune zone tu lo sai i discorsi sono molto più lunghi in più noi siamo instabili abbiamo il ponte il ponte è una di questi questi casi ma perché è un fatto eclatante ma abbiamo non l'idea di quelle opere veramente essenziali per il nostro sviluppo ne diciamo una ne diciamo un'altra ne diciamo un'altra e questo determina anche una proprio nel senso di programmazione lato il discorso di come indirizzare le risorse PNRR noi abbiamo una marea invece di pensare solo a grandi progetti perché 191 miliardi di cui solo 68 diciamo in termini di fondo perduto e tutti gli altri da restituire impongono l'idea di avere delle idee chiarissime su grandi progetti che ci aiutano il grande progetto riduce i problemi di programmazione riduce i problemi di gestione riduce i problemi di controllo no noi abbiamo fatto esattamente il contrario tutta quanta la programmazione per accontentare tutti è piena di piccoli di piccoli di grandi ma anche di piccoli interventi con comuni anche lo dice una che sta in Piemonte 87 abitanti 20 milioni di fondi assegnati situazione drammatica dal punto di vista della gestione quindi cosa succederà ne parliamo dopo ma un grande punto interrogativo questo complica notevolmente i tempi e la realizzabilità succederà Maria Teresa che tra due mesi quando tu andrà in pensione praticamente ti nomineranno commissario di quel comune per fare l'opera comunque a parte questo volevo ricordare un altro aneddoto mi sembra che te l'avevo già raccontato Maria Teresa presi il treno da Lione per che arriva a Milano mi pare doveva andare a Milano se non addirittura a Venezia no a Milano doveva andare e presi questo treno che era un salotto la cosa che più mi ricordo erano sui davanti ai sedili lì c'erano dei tavolini per lavorare e con le abbajurre quelle vecchie esatto una cosa una cosa deliziosa e io dico cavolo guarda un po' che bel treno e quando lo presi a ritorno invece era un treno come i nostri che era un treno delle ferrovie dello Stato che però è costruito attraverso un consorzio italo-francese e quando chiesi Contezza non mi ricordo a chi di questa disparità mi disse dico ma scusate la progettazione è sempre francese come mai da una parte ci stanno le abbajurre dall'altra non c'è manco la luce e allora la risposta dice ma l'Italia non la chiede i francesi lo chiedono e l'Italia non la chiede quindi voglio dire è proprio una questione culturale poi alla fine comunque Aldo ti do un'informazione recente ultimamente le ferrovie per o meno nell'alta velocità perché sul resto l'abbiamo già detto le italiane sono migliori di quelle francesi lo hanno detto questi francesi che sono molti da noi quindi non so che dirti dipende no dipende penso quelli del nord comunque Aldo scusami se i ragazzi non hanno altre cose da chiedere forse conviene che tu riprendi il tuo percorso così diciamo in un quadro più completo ma questo era un pezzo di lezione che volevo fare no no certo perché in realtà ecco io su quello della progettazione intanto so che adesso sono entrati nei consorsi anche gli spagnoli se non vado errato ed è possibile anche quello che dici tu però i francesi hanno a differenza di noi due e tre lo diceva poco fa mi pare di avere capito anche Giovanna ci stanno le linee interamente statali quelle partecipate e quelle interamente private però tutte e tre operano su standard prefissati dallo Stato anche perché altrimenti i sistemi non dialogherebbero in Italia tutto questo non accade appena c'è un nodo di interscambio anche il più piccolo problema tipo la pedana che si abbassa o non si abbassa praticamente diventa un grande problema l'ezze presidente della corte costituzionale Annibale Marini ha avuto un incidente gravissimo che purtroppo ne limita la mobilità in modo devastante soprattutto adesso per essere fatto più anziano praticamente in una stazione della mi sembra della Toscana è andato a scendere da un appunto da un Eurostar e praticamente non ha trovato il marciapiede sotto la pedana quindi ha fatto un volo di una ventina di centimetri se non di più che è devastante per una persona ad una certa età quindi quando poi è andato a protestare l'amministratore delegato delle ferrovie gli ha detto ma lei poteva guardare prima di scendere e tra l'altro era sera e quindi questo lo dice tutta sulla mentalità sulla mentalità nazionale e comunque insomma speriamo bene speriamo che invece adesso il restyling sia effettivamente proficuo l'unica cosa Aldo è che è limitatissimo cioè in realtà è Milano e Salerno Milano e Salerno è una parte importante dell'Italia ma non è l'unica quindi diciamo questo è un problema non è un problema da poco quindi quando pensiamo al fatto che il PNRR dovrebbe ridurre le diseguaglianze ridurre modificare perché c'è il 40% delle contribuzioni in più ti dice già che molte cose non si potranno fare alcune che tendono proprio a ridurre e a ridurre la condizionalità che è quella di favorire diciamo le popolazioni del sud poi oltretutto ci andiamo a leggere i bandi del PNRR perché i bandi applicativi danno tantissima premialità a per esempio tutti quelli sul turismo che aveva richiamato prima il presidente Carodi a quelle zone vicine alle infrastrutture quindi io mi domando come sia possibile se questi bandi di risorse vanno a dire che avvantaggeranno quei luoghi vicini alle infrastrutture perché andranno ristrutturate entro il 2025 poi rispettare quel vincolo del 40% cioè sono anche contraddittori poi dell'attuazione bandi mentre Vanessa parla mi ricordo un controllo che ho fatto con la Corte dei Conti Europea sugli aeroporti del sud in particolare Alghero Comiso Comiso che sta all'ex base in Sicilia vicino a Ragusa è La Mezzia Terme e Crotone allora la domanda delle Belga perché c'erano dei colleghi un collega italiano e un collega belga è arriviamo all'aeroporto di La Mezzia Terme dice ma l'intermodalità è assicurata? C'è un pullman che porta alla stazione? C'è un taxi c'era e lì è anche un'altra lobby perché serve per fare in modo che tu ti utilizzi solo il taxi per andare nei vari posti e così in altri luoghi quindi diciamo anche ammesso che poi in un periodo limitato di tempo l'organizzazione sia sviluppata non c'è un sistema è un servizio frequente quindi è comunque una situazione disagiata allora siccome i contributi che vengono dati vengono dati dall'Unione in collegamento con quelli nazionali per il principio di addizionalità proprio per quel discorso che diceva il Presidente Carosi sul fatto di evitare l'assistenzialità totale dell'Unione Europea ma per responsabilizzare i popoli a una partecipazione questi servizi devono essere costanti devono essere miglioramenti in modo tale che il finanziamento che dà l'Europa per aiutare gli aeroporti per aiutare le infrastrutture dia veramente quel risultato sperato in Italia in alcuni settori il discorso è un gran punto interrogativo quindi tornando appunto agli enti locali mentre si capisce bene l'interesse del Comune di Roma del Comune di Milano e anche su base regionale perché la maggior parte degli abitanti stanno nei grandi centri e quindi anche la composizione delle giunte regionali dei consigli risentono di questo mandato su base di prevalenza demografica nei comuni medio-piccoli che poi sono la maggior parte l'interesse dovrebbe proprio essere quello di creare dei nodi delle reti di interscambio in modo tale che possa arrivare nella città quello che entra in un nodo precedente dove possono arrivare merci e viaggiatori per essere trasportati e in questo purtroppo Imeodana o Settedona Ferentes anche queste offerte che vengono fatte su base da parte di comuni e delle stesse province di svolgere il servizio per conto utilizzare il contributo gestire il contributo per conto del piccolo comune può diventare una trappola perché anziché con un progetto specifico di valorizzazione dell'interscambio che coinvolge appunto la piccola realtà locale vanno a finire come risorsa aggiuntiva a quella nazionale che prima dicevate tu Maria Teresa e Giovanna quindi abbiamo varie facce della medaglia in cui quello che manca probabilmente è proprio il manager di progetto quello capace di pensare anche in piccolo non solo in grande e che diventa un po' la testa d'uovo delle piccole comunità per farsi valere non solo a livello formale di attribuzione del contributo ma anche di utilizzazione proficua per la propria gente insomma ma secondo lei c'è una speranza diciamo per il futuro per poter cambiare questa situazione ma io ripeto siete voi giovani la mia speranza nel senso che è un processo che si deve sviluppare culturalmente anche attraverso l'associazionismo oggi per esempio si fanno degli studi integrati dove ci sono anche nell'ambito ingegneristico e degli architetti ci sono degli studi integrati in cui c'è il geologo ci sta il progettista telematico ecco tutta una serie di persone che sono in grado di gestire in modo integrato d'altronde se pensiamo alla scienza se pensiamo alla fisica ecco vediamo come ormai queste cose si portano avanti attraverso le reti attraverso lo scambio e attraverso l'attribuzione ripartita dei compiti perché di fronte a uno scenario di conoscenze e di potenzialità che è sempre più vasto poi a ciascuno va affidato il suo per non pestarsi i piedi e per autocoordinarsi per questo dicevo che il project manager come capacità di coordinamento di tutte queste potenzialità diventa fondamentale e c'è anche la possibilità di avere dei contributi in ambito europeo per questo l'importante è utilizzarli non per iniziative diciamo puramente speculative nel senso appunto di malversazione di risorse ma di creazione di professionalità qui veramente il mercato sarebbe infinito se si riuscisse ad avere questo interscambio e il sud anche il sud piano piano comincia a muoversi però sono ancora oasi nel deserto dobbiamo cercare di fare in modo attraverso per esempio questi corsi Giovanna che voi portate avanti potrebbero essere oggetto di un appendice di preparazione dei giovani già eruditi in questa materia al lavoro sul territorio quindi a creare diciamo delle realtà operative integrate e certo ci vuole ci vuole però già fatto non ne dubito a Livorno ho fatto devo dire 18 anni fa un po' l'universitario sulla trasporti logistica con questi rapporti con le aziende e anche come dire disegnare il profilo universitario tenendo conto di quelle che erano le problematiche in quel settore e il risultato è che i studenti che si laureano a logistica nell'arco di 6 mesi trovano lavoro questo è il modello dovrebbe essere questo però non è che abbiano come dire valorizzato più di tanto lo danno per scontato capito però bisogna insistere bisogna insistere con loro con il loro corso di laurea è un pochino più difficile diciamo che con con il jamonné e ora poi speriamo l'anno prossimo riattivo il corso di diritto contabile pubblico di riuscire a aprire anche questi collegamenti o con le amministrazioni pubbliche con le aziende perché loro abbiano anche contezza in una volta laureati dove vanno a capitare e poi diciamo questa prospettiva europea dà loro anche un'altra idea diciamo che è quella di partecipare anche ai bandi europei ma non per rimanerci fissili ma per fare delle altre esperienze che qualificano notevolmente la loro professionalità anche poi spendendo l'anità perché la nostra idea non è quella di darli ma è anche qualificarli adeguatamente il fatto è che noi abbiamo dei giovani molto bravi ma quando lo scoprono all'estero e poi non ce li rimandano più io lo vedo per esempio proprio con la Gran Bretagna l'Irlanda praticamente lì ci sono retribuzioni molto più elevate facilitazioni notevoli insomma ma poi l'italiano una volta che diciamo professionalmente adeguato è anche un elastico rispetto agli stranieri perché vivono in una realtà abbastanza e quindi diciamo per esempio il Rusemburgo che è pieno di banche il ragionamento è se gli italiani fossero nell'ordinario allora nella comparazione dei tedeschi se fossero nell'ordinario come i tedeschi sarebbero perfetti perché gli tedeschi quando c'è una crisi un problema vanno in tilt gli italiani no quindi diciamo noi dovremmo cercare di migliorare l'ordinario perché poi saremmo bravissimi nello straordinario e gli straordinari capitano sempre perché non c'è nessuna situazione perfetta qui c'è un valore di dare i nostri requisiti nei momenti di crisi collegatamente con la modalità normale io voglio fare una domanda al presidente ritornando un po' ai temi classici ci sta parlando caro presidente della revisione del fatto di stabilità ma cosa ne pensi quale sarà l'effetto per l'Italia perché insomma anche si rappresenta spesso l'Europa come l'Europa matrimi però quando fa comodo a seconda dei casi però io sono molto preoccupata del fatto di stabilità perché non ho capito dove si va a parare soprattutto questo anche esasperazione del nazionalismo bisogna andarci cauti perché col debito che ci ritroviamo 145% capito mi sembra che sia passato come dire in secondo ordine sia il problema del debito sia il problema delle riforme strutturali come quella della sanità nessuno ne parla più il covid è sparito ma i problemi poi verranno fuori quindi vorrei sapere poi ricordiamoci che lo stesso covid non è stato oggetto di finanziamento a fondo perduto ma di sospensione delle regole e poi prestiti da restituire c'è una sentenza della Corte Costituzionale mi pare la 168 redattori Antonini la quale praticamente ha affrontato naturalmente mi pare che la la regione erano era un ricorso della regione Calabria contro lo Stato la regione Calabria voleva mantenere il commissario voleva praticamente mantenere le regole commissariali che fino all'ora avevano fallito quindi aveva impugnato la norma che prevedeva che il commissario che tra l'altro era lo stesso presidente regionale dovesse avere almeno 25 unità senza nemmeno specificare la loro qualificazione professionale dal personale regionale e allora la regione diceva ma questo personale è poco eccetera la Corte Costituzionale con una sentenza veramente rivoluzionaria la 168 del 2022 o del 2021 addirittura io non c'ero più praticamente cosa ha detto attenzione la questione è esattamente l'opposto di quella del ricorrente quindi in teoria secondo le tecniche processuali tradizionali la questione doveva essere dichiarata infondata e invece la questione è stata dichiarata fondata nel senso opposto a quello richiesto dalla regione Calabria perché si è detto che in teoria bisognava fare piazza pulita dei commissari e degli apparati precedenti che non erano stati in grado in vent'anni di rimettere a posto il gap sanitario della Calabria così come doveva essere fatta piazza pulita dei tavoli di verifica i quali praticamente si limitavano a constatare la mancata prestazione dei livelli essenziali di assistenza senza fare nulla per assicurare invece questi livelli e praticamente si è detto che la normativa statale perché qui è stata dichiarata incostituzionale quella dello Stato non della regione doveva prevedere la possibilità per i commissari innanzitutto di nominare i commissari che avessero nel loro curriculum delle esperienze vere di risoluzione di casi analoghi non delle nomine virtuali a progetti che poi erano falliti come avveniva fino ad allora e poi una serie di apparati anche sfruttando appunto le potenzialità giovanili i quali gli avrebbero consentito di utilizzare un puzzle di tipo scientifico sanitario appropriato per intervenire sul territorio nelle situazioni di volta in volta più gravi e creando anche una rete quindi se manca tutto in Calabria creare una rete perché magari a Vibo Valencia si faccia una cosa a Frotone un'altra a Catanzaro ancora un'altra ma con un sistema di intervento rapido ed integrato quindi ecco questa è la prima è il modo in cui la Corte Costituzionale ha affrontato in modo sostanziale perché gli ha distrutto il giocarello dei soliti noti che andavano a prendere le grandi retribuzioni di commissari nulla facenti addirittura c'è stata se vi ricordate quella famosa intervista non mi ricordo se erano le Iene o Striscia la Notizia non mi ricordo andarono dal commissario chiedendogli che cosa stesse facendo e il commissario rispose io non faccio niente aspetto direttive da parte del beh era il Covid era il periodo del Covid infatti aspetto direttive da parte del Ministero e il Ministero invece gli disse no anzi addirittura gli intervistatori gli disse no c'è questa direttiva per cui le dovresti fare tu queste cose e lui si scusò che quel giorno era stonato eccetera e poi fu obbligato a dimettersi perché ci fu ovviamente una reazione dell'opinione comune violenta di fronte a un parassita di quel genere e non so se era un nezzo generale che cosa fosse però questo dà la misura di quanta gente poi si infili in mezzo quando come ha detto la Corte Costituzionale non si fa riferimento alla professionalità vera specifica dimostrata sul campo ma ad una professionalità virtuale attraverso una serie di incarichi ricevuti che poi sono arrivati quasi tutti ad esiti disastrosi ecco questo secondo me è un punto importante sulla prospettiva più generale che chiedeva appunto che chiedeva Giovanna io credo che la strada sia quella proprio di impegnare le somme nella creazione di queste vogliamo chiamarle infrastrutture culturali cioè investire in una rete di tipo professionale e di tipo professionale integrato quindi a un certo momento tenere una cabina di regia snella in cui vengono registrati soltanto i fatti che vengono realizzati dai beneficiari di contributi ma poi non necessariamente solo contributi ma ci possono essere sgravi fiscali quant'altro e in sede europea far valere anche diciamo questa asimmetria che c'è tra controlli sulla spesa e invece praticamente la totale deresponsabilizzazione di coloro che sfruttano il dumping fiscale e sociale e qui insomma bisogna fare una ricognizione a paesi come l'Olanda il Lussemburgo il Belgio i quali si avvalgono di una concorrenza pompata strutturale capacità concorrenziali dovuto al fatto che loro godono diciamo di questi benefici anche la famosa liquota fissa del 27 quant'era del 27% eccetera è una secondo me è una soluzione molto discutibile perché praticamente l'Italia rimane penalizzata proprio dal proprio sistema costituzionale che in base agli articoli 3 e 53 prevede che la fiscalità abbia un contenuto progressivo in misura dei profitti che vengono realizzati se io la metto stabile al 27% questo diventa una premialità per i paradisi fiscali dove si possono si può pagare una liquota bassissima per profitti incredibili io ricordo che il guru che fu chiamato dal governo Renzi anzi c'era già Gentiloni a mettere a posto il monte dei Paschi pare che guadagni 27 milioni di euro al mese netti quindi sono profitti pazzeschi che tassati al 27% si realizza un po' di cassa ma è uno stannuto di fronte a queste ricchezze che sono sempre più diffuse nel mondo e che urtano contro l'abbasciamento medio dei renditi dei paesi in via di sviluppo ma anche di quei paesi del terziario amministrativo come sta diventando l'Italia dove noi notiamo notevoli disallineamenti accanto ad uffici che fanno profitti elevati sono sempre maggiori quelli di sparring partner i subaffidatari che invece lavorano condizioni di mera sopravvivenza pensiamo a quanti ingegneri per esempio vengono utilizzati nell'ambito della sicurezza e vengono pagati con stipendi pari a quella che una volta venivano dati alle carriere esecutive sono tutti fenomeni che chiaramente dovrebbero essere monitorati e solo la trasparenza finanziaria cioè dei rapporti che pubblichino i veri profitti e quindi anche le migliori situazioni di tassazione dovrebbero essere fatti valere e invece diciamo l'Italia su questo sembra un po' appecoronata sulle novità che vengono partolite a Bruxelles e questo insomma non ci aiuta l'Italia deve avere un ruolo attivo insomma un paese fondatore viva Dio e quindi dovrebbe avere una dignità ma per avere dignità bisogna pure comportarsi bene da buttare sul piatto ecco quando si tratta di prendere decisioni strutturali non so se ho risposto alla tua domanda Giovanni non ti ho soddisfatto sì no guarda sto spogandomi con la professoressa Zena di quello che sta succedendo in sanità che è indecente cioè nessuno si rende conto che stiamo privatizzando la sanità quando ce ne renderemo conto sarà troppo tardi e quindi ha introdotto un altro argomento che volevo trattare quello delle condizionalità esterne ma io ti leggo nel pensiero quindi a questo punto ritorno sul mio schema e vediamo che nella in un fenomeno globalizzato prima che abbraccia pure l'Italia un problema grave è quello delle regole e condizionalità proposte da enti o istituzioni direttamente investite dall'Unione Europea o anche invece non investite direttamente ma che hanno un impatto nelle decisioni attraverso vari tecnicismi che vengono abbracciati da coloro che svolgono certi lavori in tema di stime delle prospettive finanziarie fino ad arrivare appunto alle regole anche minute in termini di sicurezza dei sistemi e quant'altro che sono un problema gravissimo per noi ma anche a livello globalizzato e soprattutto vanno a colpire i paesi dell'America Latina i paesi più depressi dell'America Latina ma lì purtroppo sono depressi quasi tutti e quelli del corno d'Africa queste regole e condizionalità sono sostanzialmente sono quelle prodotte dai sistemi bancari globalizzati e sono quelli prodotti appunto da società che ottengono anche le società di rating insomma hanno questa grande capacità di impattare sulle economie e anche sulla disciplina del credito e di quant'altro noi in sede di Corte dei Conti prima che fosse istituita la SAF facemmo un convegno mi sembra che era presente anche appunto Giovanna in cui il relatore principe e l'ospite d'onore era il professor Kartik Ramanna che è un luminare dell'economia statunitense ha insegnato nelle più importanti università statunitensi a cominciare da Harvard Yale Boston e che era intitolato le regole sottili della finanza sottili in realtà qui è proprio nel senso italiano quelle regole che sembrano diciamo vengono date come regole naturali spacciate per regole naturali e che poi vanno ad incidere sulle decisioni finanziarie importanti in materia di credito in materia di stima delle prospettive di sviluppo e quant'altro Rahman ha questa caratteristica che viene dal mondo indiano che è un mondo matematico sviluppatissimo ma che è anche un mondo economicamente depresso e che ha fatto la fortuna come tanti altri matematici e scienziati indiani negli Stati Uniti quindi in realtà conosce le situazioni ma le vede ancora con l'occhio critico dello scienziato che viene da un popolo economicamente depresso e quindi in questo articolo che poi è stato tradotto mi sembra dalla nostra Monica Bergo sulla rivista sulla rivista Bilancio Comunità Persona e poi mi sembra pubblicato anche dalla rivista della Corte dei Conti ecco questa traduzione riconosciuta dallo stesso Romanna in pratica mette in guardia proprio da ciò che viene spacciato come regola dell'arte come regola tecnica apolitica per così dire no invece è la regola tecnica politicizzata che serve a fare discriminazioni a secondo del destinatario di quella regola tra l'altro Romanna sostiene come fanno anche altri illustri economisti io posso citare il nostro fraterno amico Francesco Capalbo il nostro professore che ha girato il mondo prima di tornare ad insegnare in Italia ecco queste regole non sono neutrali perché praticamente prendono per e applicano dei criteri che sono indirizzati a determinati soggetti e oltretutto presuppongono alla base che queste regole possano valere con la stessa efficacia in un mondo iperfinanziario come quello degli Stati Uniti o del Regno Unito o della stessa Svizzera e nello stesso modo invece nelle economie depresse non c'è niente di più falso sostiene Romanna e sostengono appunto una nutrita schiera di economisti tra cui anche dei Nobel dell'economia i quali invece vorrebbero delle regole appropriate per la realtà in cui esse vengono applicate e in Italia il massimo studioso di questi fenomeni e anche organizzatore di convegni in America Latina città del Messico è il professor Pisanischi dell'Università di Siena che mi sembra tu Giovanna hai già avuto modo di ospitare in qualche convegno dedicato alla materia dei principi contabili sì nel convegno di contabilità nazionale convegno nazionale di contabilità pubblica abbiamo finito anche quello sulla sanità ti arriverà fra breve Andrea Pisanischi è una persona di una grande umiltà in confronti di tutte le cose che sa lui si presenta sempre come un osservatore apprendista delle novità finanziarie che arrivano ma poi quando sviluppa il suo pensiero ci accorgiamo che è una delle persone più informate e più lucide nel denunciare questi processi finanziari anomali che perseguitano le comunità più povere e quindi denuncia da un lato l'affidamento da parte dell'Unione ma anche di altri paesi a queste società e a queste authorities autorities chiamiamole così a queste agenzie che funzionano come autorities di fatto di determinati compiti di progettazione e redazione di principi di redazione di bilancio e di controllo dei bilanci e praticamente diventano poi il veicolo per queste politiche diciamo deviazioniste da politiche sociali nell'ambito globalizzato di questa materia credo che ne abbia parlato Giovanna anche il presidente Coppola mi sembra vero anche se mi dicevi che l'aula non era molto favorevole tra l'altro stavo cercando ora la trascrizione perché lui ha fatto parlava in italiano però le slide che erano tutte in inglese allora ho chiesto uno dei nostri ragazzi che ha fatto la traduzione ora volevo mandarla anche a Maria Teresa perché io l'ho letta però hanno bisogno di per essere digerite ma più che altro esplicitate perché gli studenti cioè io ho qualche strumento in più dei miei studenti ce l'ho e ho avuto difficoltà anche in alcuni casi nei passaggi non li ho capiti proprio perché lui fa tutta la distinzione del controllo che ECA fa di performance no ora va di moda il performance efficienza efficacia raggiungimento degli obiettivi però con molta complianza adesso va molto di moda complianza anche la sì complianza però onestamente c'è bisogno di come dire sistematizzarle un po' per capire come si comporta ECA e che tipo di controllo perché ECA anche lì mi sembra che dalle slide forse si perda di vista una cosa è il controllo che ECA fa sulla gestione delle organismi comunitari quindi controlla la commissione il consiglio quindi come vengono gestiti i fondi ma le assegnazioni che loro hanno altra cosa è invece il controllo sui fondi sugli stati quindi sui fondi erogati dalla commissione agli stati membri quindi fondi diretti e fondi indiretti quindi sono due approcci completamente diversi e ora stavo cercandolo proprio per passarlo a Maria Teresa perché ho detto secondo me Giovanna sarebbe prezioso fare una raccolta se me la rimandi mi fai un favore così la mando anche al presidente Carosi perché è bene sì ma guarda ce l'avevo ma non la trovo nel dicevo Giovanna che secondo me è importantissimo dare a questi ragazzi l'ampio materiale di Pisaneschi Pisaneschi ha una gran serie di pubblicazioni anche aggiornate e questo può guidarli e anche documenti credo in spagnolo o portoghese che vengono licenziati a città del Messico mi senti Giovanna eh si si sta qua Giovanna sono qui no sono qui no ti dicevo sarebbe importante distribuire questo materiale di Pisaneschi che è un materiale che delle volte parla con i fatti insomma ecco e soprattutto esprime un po' anche la indignazione della dottrina economica di questi paesi della prevalente dottrina economica di questi paesi sugli snodi che attualmente vengono adottati in ambito globalizzato perché perché ripeto delle volte i fatti parlano molto più delle opinioni o delle conclusioni come posso dire asseverative asseveranti quelle che ripetono un concetto dieci volte lo fanno diventare realtà invece bisognerebbe farsi un'idea attraverso la l'osservazione di determinati di determinati fatti e su questo punto si potrebbe lavorare anche in prospettiva per i prossimi corsi Giovanni sì perché vanno chiariti questi passaggi comunque no Pisa Chieschi non fa parte del programma quest'anno già Monnet però lo possiamo invitare ma è materiale bibliografico materiale il problema vedi che questo è un corso come dire è un modulo già Monnet che noi abbiamo anche perché ci sia una convenienza per gli studenti oltre al entusiasmo di partecipare al già Monnet che poi devono monetizzare in termini di crediti e quindi l'abbiamo inserito su un esame a scelta in questo caso c'è diritto degli interessi finanziari però quello che manca che dobbiamo fare è organizzare un po' il materiale perché questi seminari sono utilissimi però poi mettendomi nei panni degli studenti tra l'altro sono tutti studenti del primo anno loro hanno bisogno poi di un testo che gli ordini un po' tutti questi passaggi che non sono facili non sono scontati ecco perché mi ero preoccupata della lezione di Coppola che era interessantissima però i ragazzi non avevano gli strumenti per capirla appieno quindi ora la traduzione vedo di tradurla in un linguaggio più comprensibile anche se ti confesso che ci sono dei passaggi che non mi sono chiari ecco perché ve la mando così se anche voi potete darmi una mano per tradurre perché il controllo a cui faceva riferimento Maria Teresa ora cioè sulla regolarità e legittimità quello sul bilancio dell'Unione c'è quello c'è quello e anche c'è la DAS con le operazioni con la verifica delle operazioni sottostanti quello che invece è nuovo è in relazione alla cooperazione Corte dei Conti italiana e Corte dei Conti europea è questo controllo sulla performance che poi si traduce nel raggiungimento degli obiettivi nella realizzazione delle riforme queste cose che sono alla base al cardine di tutto il PNRR perché vabbè la legittimità e la regolarità della spesa non si può eludere perché anche il recovery il regolamento 241 parla di sana gestione la sana gestione va tradotta nel rispetto delle regole finanziarie sugli equilibri finanziari però poi questa cosa dei milestone e dei target onestamente insomma come misurarli anche perché ho visto che ci sono indicatori della commissione indicatori del MEF e ora ho visto anche la sezione autonomia della corte dei ponti ha previsto degli indicatori e io non ci capisco più nulla su questi indicatori quindi figurati gli studenti quindi vorrei la percorre era molto 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 difficile perché mi sembrava scritto in italiano poi tradotto in inglese perché era in inglese molto strano cioè non era in inglese inglese quindi era vabbè comunque me l'hanno andato non so l'è arrivata vediamo Francesca richiesta va beh no però la professoressa Manzetti qualche giorno fa ma io ma ce l'avevo anch'io però ora la vogliamo mandare non c'è problema ce l'aveviamo e la lascio un attimo qua se la vuole far vedere io ce l'ho faccio in tele no no vabbè ma io direi che poi la trovi se me l'hai mandata è Giovanna appunto quello b che ho un ip punto sì sì si è andato due volte provi a cercare se no no ma tanto arrivo ma Giovanna poi ce la mandi dopo a me è andato io ce l'ho no l'ho stampata anche se ce la mandi non la potremmo guardare quindi la dobbiamo guardare allora ragazzi e poi dirti quello che pensiamo vediamo facciamo il punto della situazione tutto chiaro no qualche domanda all'intervento del presidente cioè le varie argomentazioni tutto silenzio cosa facciamo andiamo avanti io direi beh io intanto intanto direi Giovanna di dare un consiglio avere una guida di questo corso che stanno facendo è fondamentale ma sicuramente tra te Vanessa Manzetti siete in grado di fare poi una come posso dire una lettura una chiave di dare una chiave di lettura del materiale che è già stato distribuito e anche dei problemi che rimangono insoluti come prospettiva di evoluzione scientifica io suggerisco loro di diffidare di come la realtà ci viene rappresentata proprio da da questi organismi e da queste prassi di livello internazionale cioè tutto quello che viene fatto passare come regola naturale dell'economia secondo una visione iperliberista che è entrata in crisi proprio con i fatti con le situazioni di degrado economico che si sono incentivate nel secolo attuale ecco questo secondo me diventa fondamentale perché io sono convinto che la regola dell'espansione illimitata dei mercati e la regola della diciamo dell'economia aggressiva e competitiva non sia una regola razionale proprio perché noi siamo una una realtà comunque confinata su un pianeta le cui risorse sono state consumate negli ultimi 150-200 anni in modo geometricamente maggiore di quello che è accaduto dalla comparsa dell'uomo sulla terra e questo è un dato di fatto un dato di razionalità per cui insomma ecco non si possono prendere a riferimento quei paradigmi della espansione illimitata e questo non è più un problema di ideologie ma un problema di ragione di razionalità di conoscenza della storia non bisogna buttarla in politica non è il riferimento non è né il comunismo storico che ha fallito l'abbiamo visto e probabilmente nemmeno il comunismo cinese che pure in termini di sviluppo economico ha accaduto quella idea liberista che nei periodi nei paesi comunisti non si potesse arrivare allo sviluppo della produzione allo sviluppo economico diciamo che tutti questi fatti vanno messi insieme per ipotizzare nuovi ordini concettuali nuovi ordini concettuali che non insistono con la mano invisibile di Adam Smith che è la parte la provvidenza la competizione economica totale che diventa provvidenza questa non era l'idea più brillante di Adam Smith dei fisiocrati oggi oggi un fisiocrate secondo me andrebbe a vedere come nella realtà si sviluppano o decadono rapidamente alcuni modelli di sviluppo economico e di sviluppo politico sociale questo deve essere un po' secondo me la vocazione del nuovo spenziato sociale uno che tiene conto di quello che ha intorno insomma ecco sì ma quindi ridimensionare certi miti del mercato libero mercato abbiamo avuto abbiamo toccato con mano cosa vuol dire con la crisi energetica la crisi del gas quindi ritornare un po' anche a meno slogan e tener conto anche che ci sono dei servizi essenziali che non possono essere appaltati al mercato alla concorrenza ma devono essere gestiti dallo Stato sarò anzi è regime però i risultati sono questi e questo è proprio quello che dicono poi alla fin fine sia Ramanna che Pisanischi insomma che queste scuole che stanno sorgendo nell'America Latina ci sono degli interventi che sono pubblici per loro natura pubblico è quello che pertiene alla collettività per dirlo con i romani privato è quello che fa comodo al singolo qualsiasi capriola dialettica poi urta contro questa cosa che è come posso dire di apprendimento di apprendimento istantaneo istintivo del 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 soggetto anche le metafore sportive nei giochi di squadra i mediani contano almeno come i finalizzatori i portieri devono parare per la squadra non non fare esibire pirouette che poi finiscono per passare la palla all'attaccante avversario che fa golle e così le finezze degli attaccanti devono portare al golle perché se uno fa 500 dribbling e non tira in realtà non è utile ecco quindi è un certo momento ma lo stesso i giochi individuali pensiamo al tennis oggi prevedono che gli atleti abbiano a disposizione lo psicologo il motivatore l'allenatore specifico è così insomma il mondo è fatto di organizzazione di organizzazione per lo scopo specifico che si porta avanti quindi quando lo scopo è pubblico quando lo scopo è sociale l'interesse generale bisogna che la regia sia pubblica e anche le risorse siano pubbliche perché non c'è non esiste banca che fa i prestiti per abbattere le tasse per finire insomma con una battuta rispetto a certe cose che si sentono oggi non si può non si possono prendere i prestiti del del recovery per abbattere le tasse non è una riforma strutturale ahimè no allora ragazzi io devo io volete che rimanga anche il pomeriggio come vostro osservatore Giovanna senti se questo non ti crea problemi io mi sono liberato anche per il pomeriggio però ovviamente nel pomeriggio ho un ruolo di ascoltatore prevalente se poi se poi volete conoscendo di ascoltatore e basta non ci credo non ci credo nemmeno se me lo giuri però potrebbe essere interessante proprio anche le tue interlocuzioni con la nostra Maria Teresa Polito che è qui già pronta con le slide magari si possono fare anche utilizzando la chat così non rompo troppo le scatole come interruzione non le rompi non le rompi soltanto ragazzi come siamo organizzati Vanessa c'era una pausa di 10 minuti o mezzo l'ora che non abbiamo fatto non ce la vogliamo fare ora per fare un'introduzione della Presidente Polito ma io direi visto che i ragazzi sono dispissi di lasciare altre cose da dire ce le dice subito in modo tale no anche perché la mia è un'impostazione molto diversa dalla sua quindi diciamo lui interverrà quando vorrà lui è il giudice costituzione no ma lui interverrà quando vorrà però dico diciamo se lui ha delle cose nel suo programma mentale da concludere forse è meglio che le dici anche perché i ragazzi stanno qua quando dici qualcosa guarda su sui rischi buon pranzo sì no no questo lo fa il Papa ancora te no io ho detto buon pranzo ma lo dice il Papa buon pranzo tutte le domeniche no ma io lo ma io lo dico ma io lo dico nel senso di mangiare sì ma non mangia solo una cosa no solo un flash però io sto verificando dalle varie relazioni delle sezioni regionali di controllo che monitorano il e anche dal famoso collegio concomitante ai ragazzi ora non glielo spiego però sto verificando che si stanno segnalando ritardi nella realizzazione dei progetti la domanda che ti pongo ma tutte quelle sanzioni che sono previste nel caso in cui non si raggiungano gli obiettivi che come dire cominciano che saranno applicate il potere di sostituzione comunque sì però il potere di sostituzione se ci sono problemi nella realizzazione di un asilo nido potere anche il commissario potere sostituzione e quindi non lo so come saranno verificabili vi ricordate quando è venuta quella bravissima funzionaria della commissione e ci diceva poi l'avete scelto voi questa cosa e adesso la dovete dimostrare dovete trovare sia il metro di misura che convincere i dipartimenti europei competenti vabbè allora diciamo che allora il pranzo per ora si sospende in modo ecumenico io per il momento mi assento un'oretta diciamo però voi fate quello che ritenete giusto no no ci si assenta anche noi perché li vedo felici stanno sorridendo quindi hanno bisogno hanno bisogno di allora per ora ringraziamo il presidente Carosi vi lasciamo liberi vi lasciamo liberi andate a fare uno spuntino rimuginate su quello che avete ascoltato allora salve buonasera a tutti è un piacere sostanziale non formale stare qui a Pisa ma stare anche con voi chi fa il mestiere che faccio io e che in genere non ha a che fare con giovani perché ha a che fare con situazioni diciamo più articolate non vede soltanto questo come una possibilità di evasione ma anche come una possibilità di acquisire reciprocamente nello scambio delle competenze e anche degli interessi e soprattutto visto che abbiamo venito da un discorso della mattinata in cui sembrava un po' pessimistico io direi che tutti noi dobbiamo puntare molto sulle potenzialità dell'Europa crederci profondamente e pensare che poi ci sono delle fasi in questa Europa che cresce in questa Europa che si sviluppa e secondo me diciamo una fase in qualche misura positiva in cui si è sviluppato il principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 del trattato sull'Unione Europea è il principio di solidarietà ora molte volte lo dimentichiamo e c'è stato un discorso di stamattina sui paesi opportunisti che considerano l'Unione come un banco Matt io prendo quello che mi conviene prendo contributi e non do in termini di obblighi a parte che l'Europa oramai questo lo ha anche capito e quindi la Commissione la Corte di Giustizia ha anche emesso delle sentenze abbastanza pesanti nei confronti dei tre paesi che venivano menzionati questa mattina per richiamarli ai loro obblighi però devo dire che per esempio nell'ambito del Covid questo principio della solidarietà europea è sicuramente emerso certo diciamo c'è stato bisogno di un confronto di uno scambio però diciamo anche la quantità di fondi che sono stati erogati in funzione non solo della popolazione perché Next Generation U è variabile per paese certamente anche in funzione delle richieste che sono state fatte ma soprattutto anche in funzione delle problematiche perché è stato applicato un indicatore e l'indicatore ha fornito all'Italia indubbiamente una grandissima opportunità allora dal titolo che mi era stato dato che riguardava le corti in Europa io ho pensato di fare una comparazione fra le due corti più affini che sono la corte dei conti europea e la corte dei conti italiana e vedrete che ci sono delle analogie ma anche delle differenze allora se prendiamo la slide ce l'abbiamo qui davanti la corte dei conti europea ai sensi dell'articolo 285 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea assicura il controllo dei conti dell'Unione voi sapete vi sarà stato sicuramente detto che in Europa ci sono diverse istituzioni le principali le cinque principali istituzioni che ovviamente spendono un po' come il Parlamento nazionale e un po' come il Governo nazionale e questi soggetti devono presentare hanno un bilancio preventivo e poi devono presentare il conto la corte dei conti controlla attraverso un'attività che viene svolta dalla Commissione perché la Commissione che fa il bilancio dell'Unione controlla questi conti poi diciamo dopo queste comparazioni iniziali vi darò anche qualche elemento molto sintetico di quali sono le modalità con cui il bilancio si sviluppa in Europa quali sono le formule ordinarie e queste formule poi io ve le declinerò anche per il Next Generation U per il PNRR in cui si dice una cosa e poi se ne fa un'altra non il sistema diciamo delle norme prevede una cosa però poi il sistema dei controlli è completamente diverso perché c'è stato un rafforzamento poi lo vedrete andiamo avanti allora la per farvi sempre poi fare una comparazione con la Corte Italiana la Corte dei Conti Europei è composta da un cittadino per ciascuno degli Stati membri è un cittadino particolare deve avere particolari requisiti ma soprattutto deve essere un soggetto indipendente non deve avere dei legami con il sistema ed essere deve superare il vaglio della compatibilità e quindi non deve avere conflitti di interessi deve svolgere ovviamente le sue funzioni nell'interesse dell'Unione la nomina del membro nazionale è di sei anni ma può essere anche un mandato rinnovabile ricordatevelo perché poi nella comparazione con il sistema nazionale vedete che ci sono notevoli differenze allora ai sensi dell'articolo 287 che cosa fa la Corte dei Conti Europea principalmente esamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Unione quindi in realtà fa un controllo di regolarità contabile però non solo degli delle istituzioni europee ma anche di tutti gli organi degli organismi che si trovano collegati con l'Unione nella misura in cui diciamo questo è consentito dai vari atti costitutivi e ricevendo fondi dal sistema europeo l'altra slide allora dopodiché diciamo a questo controllo annuale che è un controllo sul bilancio vi è anche collegata una certificazione che deve essere data che è una certificazione che si chiama dichiarazione d'assurance cioè una dichiarazione di affidabilità dei conti e delle operazioni sottostanti quindi non basta soltanto che ci sia una coincidenza dei conti o diciamo a campione perché non potrebbero essere guardate tutte le non potrebbe essere guardata tutta la contabilità sottostante ma si scelgono dei filoni attraverso dei criteri statistici per cui non è che si privilegia l'uno o l'altro settore e si verificano le operazioni sottostanti quindi la legittimità del procedimento se il procedimento è legittimo nelle operazioni che sono state prescelte per un principio statistico che è quello proprio della campionatura si ritiene che il bilancio sia affidabile se invece quelle poste non sono affidabili comincia tutto un contraddittorio fino ad arrivare qualora la corte non sia convinta della bontà delle poste quelle poste non possono essere diciamo accertate e parificate anche perché e questo poi è un'affinità anche col sistema nazionale alla fine di tutte queste operazioni che avviene comunque in contraddittorio sempre con le istituzioni e con gli stati membri lì dove poi si farà una gestione concorrente ne parliamo fra un momento si fa il discarico del conto il discarico significa che io l'ho considerato regolare e che quindi per diciamo tutte le poste o per la maggior parte delle poste o per una parte di esse considero legittima e regolare la spesa fatta dalle istituzioni il principio cardine del prego parli forte perché non la sento perché si scarica il conto del contabile cioè in realtà il contabile sviluppa diciamo il conto il contabile in senso lato perché poi sono gli uffici di contabilità dei vari con i vari revisori a questo punto una volta che io ho valutato la regolarità del conto vuol dire che quelle poste io le considero affidabili e quindi le discarico nel senso che vanno bene cioè chiudo quella vicenda del rendiconto questa stessa operazione si fa pure in Italia con i conti delle regioni e con i conti in modo diverso ovviamente però con i conti delle regioni e con i conti degli enti locali prego no 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 prego certo sì diciamo che però è diverso perché l'approvazione parte dal lente invece il controllo svolge un'operazione di affidabilità di verifica della validità del conto quindi sono operazioni che non rispondono allo stesso criterio anche se poi la finalità è andato bene ha funzionato altra altra questione differente rispetto all'approvazione io diciamo quando approvo il bilancio quando approvo il rendiconto approvo l'intero io quando discarico posso anche non discaricare delle poste nel senso che decido che decido sulla base della mia istruttoria individuo delle irregolarità o nel procedimento come vi dicevo prima perché guardo le operazioni sottostanti oppure perché non mi dai giustificazioni adeguate su quelle poste e questo succede molto nei paesi membri vi parlerò un attimo perché ed è il caso in cui poi lo stato membro deve rettificare le poste e quelle escono dalla rendicontazione comunitaria e si caricano sulla rendicontazione nazionale ed è tutto il problema poi del dare avere fra l'Europa e il paese e lo stato membro altro problema diciamo altro profilo il sistema per esempio italiano è un sistema in cui questo discarico per esempio per le regioni come anche per lo stato perché c'è anche l'approvazione del rendiconto il discarico del bilancio del rendiconto nazionale avviene ai sensi dell'articolo 81 per legge quindi in realtà si crea un dibattito per il quale chi gestisce il rendiconto della regione chi gestisce il rendiconto dello stato deve tener conto delle osservazioni che vengono fatte dalla Corte dei Conti nel caso nazionale e qualora siccome è proprio un giudizio in quel caso è qualora quelle osservazioni non sono superate perché non mi hai dato elementi sufficienti non le puoi approvare quindi tu non puoi fare una legge in cui dice no non mi interessa io sono il Parlamento io approvo pure il Parlamento regionale perché in realtà io l'anno dopo quando faccio la parifica sollevo questione di costituzionalità per lesione dell'articolo 81 quindi diciamo questa è veramente un'operazione anche abbastanza forte che ha la Corte Nazionale per una tutela complessiva degli equilibri e della situazione di bilancio il sistema europeo comunque ugualmente non ha diciamo questa formula però è un sistema che non passa se la Corte dei Conti europea osserva la non affidabilità di alcune poste la non affidabilità di una di un settore perché è l'organo che diciamo dichiara la qualità del rendiconto e del relativo bilancio anche in sede preventiva tutto questo avviene sia a livello nazionale che a livello europeo con un contraddittorio un contraddittorio molto acceso con le istituzioni e questo contraddittorio è parte dei lavori nel senso che bisogna indicarlo nelle varie nelle varie parti perché non si può non tener conto delle osservazioni che hanno fatto i vari enti allora diciamo che questo è un controllo voi avete sentito parlare di controllo di performance questo è un controllo di regolarità contabile un controllo di legalità ma la Corte dei Conti europea ha anche un altro controllo quindi abbiamo il controllo di regolarità sul bilancio il controllo di assicurazione che le operazioni sottostanti sono legittime quindi un controllo di legittimità delle operazioni sottostanti e poi è un controllo di performance sulla gestione che è un controllo diciamo oramai in sviluppo in evoluzione diciamo che complessivamente c'è un principio cardine del e vabbè diciamo che nell'esercizio delle sue controlli deve riferire alla Commissione su tutti i casi di irregolarità di frodi anche di altri reati di conflitto di interessi di doppio finanziamento che incontra durante il suo percorso ma nei confronti delle irregolarità è un forte obbligo che ha nei confronti di una parte della Commissione che si chiama OLAF che è l'ufficio di lotta alle frodi che è stato costituito nel 99 nel 96 come un ufficio come servizio nel 99 come ufficio indipendente nel 1999 per gestire diciamo anche tutta l'istruttoria tutta tutte le verifiche amministrative che si fanno che si fanno nei casi in questi casi anche ai fini diciamo di individuare rapporti e relazioni con gli stati membri e di essere anche supportati ed aiutati nella verifica amministrativa che loro svolgono OLAF non è un organo penale è un organo amministrativo quindi in realtà chiede aiuto poi agli stati membri che lo supportano i funzionali di OLAF quando un fatto di irregolarità o di frode si è svolto in un determinato territorio territorio nazionale allora vabbè i controlli questo è molto simile anche come da noi i controlli sulle entrate si effettuano in base agli accertamenti perché la spesa ha degli accertamenti e poi diversamenti e allora quali sono le entrate le entrate principali dell'Unione sono almeno tre l'entrata più grande in assoluto è il reddito nazionale lordo è una percentuale variabile ma comunque abbastanza bassa sul reddito prodotto da ogni paese ed è una percentuale che raccoglie circa il 70% delle entrate dell'Unione 10-15% ma anche meno è l'IVA e tutto il resto sono derivano dai dazi sia nel soprattutto nei confronti dei paesi terzi perché voi sapete che con l'avvento del mercato unico non ci sono dazi fra un paese e l'altro però ci sono diciamo nei confronti nei confronti dei paesi terzi quindi se voi vedete individuate questo tipo di questa tipologia quando si parla di frodi c'è spesso un atteggiamento mentale che è quello di ritenere che sia denaro di altri no ma è denaro a cui partecipiamo tutti noi col nostro reddito reddito nazionale lordo perché perché in realtà noi diciamo versiamo all'Europa una quantità di risorse e diciamo questa quantità di risorse in termini di entrata poi diciamo se diventa irregolarità o frodi diventa un danno ulteriore che ricade sullo stesso paese per tanti anni l'Italia è stato un contributore netto che cosa vuol dire che ha fornito più risorse di quelle cioè ha pagato più di quanto riceveva in cambio ultimamente con il Next Generation UU questo tipo di relazione è cambiata notevolmente quindi noi riceviamo insomma stiamo ricevendo riceveremo sperando di rispettare i tempi più di quanto versiamo stamattina si parlava dell'Inghilterra devo dire che l'Inghilterra che è entrata abbastanza tardi vabbè poi è anche uscita però diciamo è entrata abbastanza tardi aveva pur non essendo sicuramente meglio peggio attrezzata dell'Italia aveva una serie di vantaggi che le consentivano in alcuni scarti di avere degli sconti su alcuni versamenti proprio per trattamenti che erano stati fatti nel momento in cui aveva dato la sua disponibilità ad entrare allora per quanto riguarda le spese diciamo i controlli sulle spese si fanno in base agli impegni e ai pagamenti allora cosa importantissima perché in Italia poi succede quando viene la Corte dei Conti Europea i controlli si effettuano tanto sui documenti quanto sul posto quindi è molto rientra in una mentalità molto diffusa quella di fare i cosiddetti controlli sul plus quindi diciamo andando a vedere presso le istituzioni quello che è realizzato quello che succede e quindi nei regolamenti comunitari e quindi nei locali di qualsiasi organismo nei regolamenti comunitari e soprattutto nel regolamento finanziario che è il 1648 del 2018 1046 del 2018 è indicato espressamente che in tutte le convenzioni che riguardano finanziamenti erogati a privati istituzioni private venga previsto espressamente che loro non possono impedire la visita dei controllori europei la visita della commissione nei loro locali allora l'Italia da questo punto di vista ha un grande vantaggio perché la corte dei conti italiana ha un potere generalizzato diverso da quello che succede in altri paesi che è proprio previsto fra le sue modalità di controllo la legge del 1994 la legge numero 20 del 1994 l'articolo 3,8 fa riferimento espresso alla possibilità di fare accertamenti sul posto anche attraverso la guardia di finanza e in tutti i luoghi anche di privati e di soggetti partecipati che abbiano avuto solvenzioni pubbliche quindi diciamo il limite del privato lì dove c'è una solvenzione dell'Unione o nel nostro caso anche una solvenzione nazionale che non sia diciamo proprio dell'Unione viene superata e superato proprio dalla legge quindi non c'è bisogno che lo metto nella convenzione perché è un fatto che opera che opera automaticamente e vabbè quindi diciamo questo è anche l'altra slide che cosa succede nei rapporti fra lo Stato membro e la Corte dei Conti europea allora negli Stati membri dice il trattato la ci deve essere una collaborazione tra gli Stati membri e la Corte attraverso diciamo un principio che appunto è il principio di collaborazione che è previsto dall'articolo 287 dall'articolo 287 del trattato e poi l'articolo 7 con il 67 il next generation new o meglio il PNRR da noi perché voglio dire il next generation new è il regolamento generale è il regolamento 1094 del 2020 che ha previsto questi finanziamenti dopodiché c'è il regolamento che ha previsto le regole che riguardano il il PNRR è il 241 del 2021 è il in Italia sono uscite diverse normative ma la principale è quella del LDL 77 del 2021 del luglio del 2021 che poi è stato convertito in legge mi sembra il 104 il 108 faccio sempre un po' di confusione sempre del 2021 in cui si è stabilito anche quali sono i controlli nell'articolo 7 comma 7 nell'attribuire il controllo alla corte dei conti ha fatto riferimento espresso alle modalità con le quali la corte dei conti effettua i controlli che diciamo a mio giudizio si è voluta riferire anche alla modalità di controllo sul PLAS cioè fai controlli documentali ma fai anche controlli sul posto inevitabilmente allora se voi ecco è un po' piena questa slide però era era per così diventa una memoria per voi più che altro vi ho richiamato l'articolo si si tu sono vostre queste allora l'articolo 255 del regolamento UE è un regolamento Parlamento e Consiglio è un regolamento finanziario prevede appunto le norme le procedure quindi lì è il trattato oltre al trattato poi c'è il regolamento finanziario ricordatevi che il trattato è del 2007 il trattato di Lisbona allora il trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea perché sono diciamo due trattati il trattato dell'Unione ma sempre di Lisbona è sempre dello stesso anno che contiene i principi fondamentali fra cui nemmeno a dirlo l'articolo 50 che prevede i paesi che escono quando è stato fatto nel 2007 nessuno pensava che ci sarebbe stato un paese che voleva uscire e poi però è stata una norma utile come per esempio se guardate l'articolo 7 c'è anche una previsione di quello che succede di un paese che viene attaccato in caso di guerra quindi voglio dire sicuramente i due trattati sono trattati molto lungimiranti in alcuni casi non so se preludono anche a forme di chiaroveggenza oppure comunque norme che poi sono state utilizzate e quindi diciamo se voi guardate l'articolo 7 io lo guardavo prima mentre stavamo parlando con Aldo l'articolo 7 del trattato sull'Unione Europea il trattato quello dei 50 e passa articoli fa riferimento appunto espressamente al discorso della degli interventi in caso di aggressione di un paese e che cosa devono fare gli altri paesi ecco quindi diciamo nel nostro caso se si pensa all'Ucraina l'Ucraina in realtà non fa parte dell'Unione però allora il problema dell'Europa è un problema complesso nel senso che l'Europa è prevista come territorio ed è prevista come Unione sono realtà diciamo diverse se voi pensate per esempio alla Corte dei Diritti dell'Uomo la Corte dei Diritti dell'Uomo è una Corte che noi consideriamo europea ma non è come la Corte dei Conti europea che è legata agli Stati membri perché la Corte dei Diritti dell'Uomo che noi chiamiamo sempre in causa è un'istituzione del Consiglio d'Europa nata nel 48 sulle ceneri di quello che erano i problemi creati dalle dittature sulle democrazie quindi l'idea di aggregare il più possibile i paesi per evitare che si avessero rischi di quel tipo e lì i paesi sono molti di più sono 47 quindi però ci sono anche paesi di mitrofi a parte l'Ucraina c'era anche la Russia la Russia però siccome il Consiglio d'Europa si è costituito per difendere i diritti una cosa sacrosanta e rapidissima che ha fatto il Consiglio d'Europa è stato a marzo del 2021 espellere la Russia che era un grande contributore quindi con dei problemi enormi dal punto di vista della retribuzione però non è che può essere anche lì alla carta cioè la partecipazione alla carta io pago e non mi dai le sanzioni pago e non vengo contestato e l'invasione è stato un fenomeno così grave per la situazione in sé ma anche per chi tutela quel tipo di diritti che era inevitabile che questo succedesse e loro da loro dipende diciamo dal sistema dipende la Corte dei diritti dell'uomo che è quella di Strasburgo prego ma è stata espulsa prima no no dopo 24 24 febbraio ha avuto se c'è stata l'invasione il 17 marzo è stata espulsa consiglio dei ministri ecco vi dico tutte queste cose perché sono nel nel board del del bilancio e quindi per la anche quest'anno ci sono grossissimi problemi di bilancio perché sono quote consistenti però era giusto che ci fosse una reazione anche rapida perché se voi vedete sentendo anche le varie le varie i vari consigli europei quelli che dopo che riuniscono tutti i presidenti della Repubblica cioè i presidenti i presidenti dei singoli paesi e vedete la difficoltà che hanno di assumere una decisione unitaria in Europa su alcuni problemi chiave si devono riunire più volte molte volte vedete anche la questione dei migranti per esempio non si riesce ai consigli europei di far venire delle decisioni avere assunto parliamo di un altro organo quindi di un'altra veste però sempre fatta di paesi che hanno in qualche modo diciamo una composizione volontaria per tutelare alcune posizioni chiave è stato un segnale sicuramente molto molto forte allora c'è un principio cardine nel allora c'è un vabbè questo è il diritto d'accesso ve l'ho già detto comunque che è quello grazie quindi diciamo non c'è soltanto un obbligo di fare accedere nei locali ma c'è anche un obbligo di fornire tutti i documenti e tutti gli elementi che la Corte dei Conti ritiene utili per i suoi controlli questo a cura di tutti i destinatari dei fondi pubblici dei fondi europei sia trattarsi di istituzioni pubbliche sia trattarsi di istituzioni dell'Unione sia trattandosi di privati che ricevono questi finanziamenti in genere sottoscrivono delle convenzioni nel momento in cui diciamo viene fornito il fondo viene fornita la viene fornita la la sovvenzione allora la cooperazione ve l'ho già detto prima è richiesto ma sarebbe non c'era bisogno di scriverlo però insomma è stato importante perché ha creato una serie di rapporti e di relazioni fra le istituzioni nazionali e la Corte dei Conti e la Corte dei Conti europea e diciamo questa cooperazione ovviamente è sviluppata attraverso uno spirito uno spirito di fiducia allora sviluppate in sommi capi che cos'è come è composta la Corte dei Conti europea che funzioni A che ruolo svolge vediamo se nei suoi rapporti con la Corte italiana ci sono delle analogie o delle differenze primo problema la Corte dei Conti italiana è una magistratura quindi già parliamo di qualcosa di diverso è un è un giudice indipendente da ogni altro potere i magistrati soltanto la legge ha due norme costituzionali che la tutelano che sono l'articolo 100 per il controllo e l'articolo 103 per la giurisdizione la Corte dei Conti in questo analogo alla Corte dei Conti europea è autonomia finanziaria può scegliere può ha un ampio potere nello scegliere il le gestioni e le amministrazioni da controllare con il suo programma di controllo definisce autonomamente gli esiti gli esiti non vengono imposti dall'esterno devi dire A devi dire B devi dire C l'esito è la sintesi di quello che si trova quando si fanno i controlli allora e vabbè i magistrati sono reclutati per concorso quindi questo accentua l'indipendenza però non è che tutte le corti dei conti o le istituzioni superiore di controllo europee sono magistrature la situazione dell'Italia è una particolarità nel senso che lo è insieme ad altri cinque paesi cinque più l'Italia sei tutti gli altri hanno un'istituzione superiore di controllo che è indipendente ma non è una magistratura quindi fate voi un po' le considerazioni se la magistratura è un potere a sé staccato da tutti gli altri nel momento in cui io non ho diciamo uno status analogo ho un'indipendenza però presidente che viene nominato dal presidente della repubblica di quel paese oppure dal parlamento cioè qui diciamo si creano dei legami che rendono se non meno indipendente maggiori difficoltà maggiori difficoltà allora i paesi che hanno la stessa situazione nazionale sotto profili diversi sono la Francia la Spagna il Portogallo la Grecia e il Belgio sotto profili diversi queste cinque realtà insieme all'Italia e quindi siamo sei su 27 quindi insomma siamo il numero più ristretto sono hanno una Corte dei Conti che è una magistratura quindi che ha una tutela costituzionale che è anche un giudice sotto molti profili diversi perché per esempio la Corte dei Conti allora l'Italia ha insieme al controllo anche la giurisdizione sui Conti la giurisdizione pensionistica dei dipendenti pubblici e la giurisdizione in materia di responsabilità dei funzionari pubblici quindi diciamo alcuni legami in fondo con i riflussi del controllo per esempio sulle frodi questo e sulle irregolarità questo può capitare quando c'è dispersione di denaro pubblico prego sì quelli che sono giudici sono la Francia la Spagna la Grecia la Grecia è quella più affine a noi dal punto di vista proprio delle caratteristiche anche del tipo di giurisdizione il Belgio e il Portogallo questi paesi hanno anche la giurisdizione dal punto di vista del giudizio prevalentemente il giudizio di conto come il Belgio come anche la Francia la Spagna e anche la Francia e il Portogallo hanno anche una sorta di giudizio di responsabilità nei confronti del funzionario che ha danneggiato l'erario pubblico però con un aggancio col sistema penale diverso dal nostro perché noi siamo totalmente indipendenti dal sistema penale tant'è vero che i giudizi in caso di frodi si possono fare via parallela perché il penale diciamo la frode è sicuramente un'azione intenzionale e quindi diciamo ha una rilevanza una rilevanza penale e ha tutto un suo seguito però qual è il problema del nostro intervento che in realtà crea una lesione del bilancio dell'Unione e in fondo anche del bilancio nazionale perché vi dicevo stamattina soprattutto in materia di fondi di fondi strutturali c'è un principio che è quello dell'addizionalità cioè il fondo nazionale il fondo europeo si deve appoggiare anche a un fondo nazionale quando viene approvata la programmazione c'è la maggior parte che viene data dall'Unione ma un'altra parte che deve essere inserita dallo Stato membro quindi nel momento in cui io ho una operazione illegittima una irregolare una frode io non ho una dispersione solo del bilancio europeo ma ho anche una dispersione del bilancio del bilancio nazionale quindi che deve fare lo Stato deve recuperare per l'Unione ma deve recuperare anche per se stessa perché ha una parte di questi fondi che ricadono sul proprio che ricadono sul proprio sul proprio bilancio allora la Corte dei Conti come vi dicevo prima italiana ha una protezione che gli deriva dalla Costituzione dall'articolo 100 e dall'articolo 103 e ha pure oltre alla funzione di controllo e alla funzione di disizionale anche una funzione consultiva come vi dicevo prima ha da anni avviato anche un'amplissima attività di controllo sull'irregolarità sulle frodi comunitarie in una logica che è completamente diversa a quella penale o a quella della giurisdizione perché in realtà il controllo arriva a fare un'analisi dei fenomeni li guarda nella loro complessità e quindi vede la ripetitività dei fatti parlavo stamattina con un vostro collega con lei in particolare sulla questione delle frodi in agricoltura le frodi in agricoltura gli ho citato un esempio che è abbastanza diffuso che è quello di apprestare finanziamenti e sovvenzioni su autodichiarazioni queste autodichiarazioni in moltissimi casi si sono rivelate false però io ho ottenuto un finanziamento attraverso una sovvenzione attraverso questa autodichiarazione che è un terreno 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 perché devo piantare ci sono vari tipi di finanziamenti però per piantare diciamo per inserire una cultura devo avere un terreno o in proprietà oppure in locazione se non ce l'ho non vedo dove posso posso piantare nulla sul balcone ma probabilmente non è legato alla quantità di risorse che io ottengo in questo caso la persona che richiede autocertifica di avere un certo appezzamento di terreno ed anche gli estremi catastali se io non faccio come nella maggior parte dei casi se io non faccio controlli a monte e scopro dopo in alcuni casi con uguale presenza in diverse regioni d'Italia quindi non è stato solamente un fenomeno del meridione devo dire che è stato diciamo io mi sono abbastanza interessata perché a un certo punto ho trovato un'entità valutativa sulle frodi molto elevata in Piemonte quando sono andata a individuare la modalità c'era quello di fare dichiarazioni false su morti i soggetti morti certo non possono prendere sovvenzioni e la dichiarazione non corrispondeva ovviamente alle persone che l'avevano fatta quindi diciamo se si fossero fatti all'inizio prima di dare la sovvenzione degli accertamenti senza tener conto soltanto dell'autocertificazione probabilmente alcuni fenomeni si sarebbero si sarebbero ridotti o non si sarebbero verificati ma questo diciamo fenomeno dell'autocertificazione non è diffuso solamente in agricoltura per esempio la questione anche delle frodi sui bonus sull'eco bonus oppure sui super bonus in alcuni casi sono state delle vere truffe perché in realtà io dichiaravo di avere fatto quei determinati lavori quindi di aver diritto a un credito di imposta ma non ce l'avevo perché il lavoro non l'avevo fatto quindi prego questa storia delle frodi non c'è un'autocertificazione in europea diciamo si potrebbe da tanto tempo non c'è no? sì però è strano quando si è arrivato comunque a questo punto che si è con la nostra situazione diciamo allora la gestione in Italia delle frodi in agricoltura no la gestione non delle frodi la gestione in generale dell'agricoltura si sviluppa attraverso i cosiddetti organismi pagatori che sono dei soggetti che sono distribuiti sulla carta dovrebbero essere distribuiti su tutte le regioni ma in realtà ce ne sono una diecina tutti quelli che non sono gestiti dall'organismo pagatore territoriale la Toscana ce l'ha per esempio si chiama Artea la Vepa e in Veneto in Piemonte si chiama non mi ricordo ma insomma comunque uno specifico tutti quegli altri dieci che non sono gestiti dall'organismo pagatore Anna Gea che funziona da organismo pagatore da una parte e dall'altra parte funziona da soggetto di coordinamento di tutti questi organismi pagatori allora un primo problema è molto parcellizzata no la distribuzione delle sovvenzioni in Italia è molto parcellizzata ci sono circa un milione e mezzo di agricoltori quindi quello rende molto difficili i controlli questa questione dell'autocertificazione noi l'abbiamo indicata da anni e diciamo che non è un meccanismo che lo abbiamo anche molto criticata però diciamo ancora regge regge anche in funzione di chi fa le istruttorie di queste pratiche perché ci sono dei soggetti intermedi che sono una sorta di di soggetti che non hanno fanno parte dell'amministrazione pubblica ma sono delle camere come quelle sindacali che preparano che preparano il che preparano la documentazione e spesso diciamo lì si annidano anche tutta una serie una serie di fenomeni quello che il controllo ha fatto rispetto alla giurisdizione perché la giurisdizione cosa fa analizza il singolo caso e dice nel caso X diciamo c'è stata la froda il motivo della froda è questa deve restituire cioè è verificato che c'è stata un'intenzionalità siccome la giurisdizione il penale no ma la giurisdizione della Corte dei Conti riguarda i funzionari e in questo caso non deve essere uno inserito nella struttura proprio ma basta che svolga un'attività di servizio nei confronti di questo fenomeno per essere comunque coinvolto nella giurisdizione il controllo invece ha un'altra funzione che è quella di fare un'analisi dei rischi e dire io ho 50 casi tutti i casi guarda 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 caso sono tutti ripetitivi con queste caratteristiche quindi qui c'è un difetto questo difetto significa che va corretto perché se non si corregge io avrò la reiterazione di questo fenomeno altro problema che noi abbiamo sollevato quindi in alcuni casi siamo riusciti a fargli con le raccomandazioni e fargli con la regenerazione in altri casi come questo delle autocertificazioni no perché è ritenuto un principio di semplificazione che viene agevolativo che viene abbastanza tollerato ma non solo in agricoltura anche in altri campi in altri settori vi citavo il settore dice io sono proprietario sono locatore ecco l'altra cosa era dice la locazione benissimo ma esibisci il contratto no locazioni orali cioè ci sono delle locazioni orali sì e comunque morti cioè nel senso che il soggetto era intestatario di particelle non era intestatario di particelle e addirittura l'intestatario di particelle era un defunto ma sono tantissimi i casi io ripeto questa pratica l'ho trovata collegata con le regioni meridionali dopodiché a un certo punto ho visto ma ci sono due milioni di frodi in agricoltura in Piemonte ma come è possibile sono andata a fare le istruttorie e ho visto che pure lì c'erano i morti e quindi ho detto è una pratica che funziona questa viene esportata in varie regioni e quindi dopodiché loro però hanno diciamo noi abbiamo fatto questo lavoro e loro hanno messo in moto dei meccanismi per recuperare perché diciamo anche poi l'organismo pagatore se ne era insomma ha accertato il problema qual è che se io gli accertamenti non li faccio subito ho difficoltà poi a recuperare perché questi soggetti magari non hanno niente su cui aggredire il patrimonio e quindi più tardi arrivo io con la mia azione di recupero e più non si fa per esempio c'è un filone che noi seguiamo da anni perché noi diciamo a parte singole indagini che si fanno anche nell'ambito della parifica regionale c'è una parte che riguarda i fondi comunitari e nella parte che riguarda i fondi comunitari c'è un profilo che il Piemonte dedica alle frodi e alle irregolarità e quindi ci interessa molto sapere se gli importi nelle varie annualità si riducono perché vuol dire che vengono recuperati anche perché nei confronti dell'Italia ma insomma un po' in generale nei confronti degli stati membri l'Unione è diventata molto furba nel senso che siccome l'Italia ha tempi molto lunghi di recupero in genere anche perché i processi durano tanto nel a metà degli anni 2000 ha emanato un regolamento in materia agricola il 1290 che in cui ha previsto che nell'arco di 4 anni o se c'è un contenzioso nell'arco di 8 anni che gli sembra proprio un tempo enorme per l'Europa 8 anni sono un tempo enorme se il recupero non viene effettuato il 50 non interessa più perché il 50% di quelle somme vengono attribuite o per legger direttamente al paese quindi il paese a prescindere da come vanno le cose le ha attribuite ma sui fondi strutturali le ha fatte ancora di meglio perché allora che cosa succede come funziona con questi accertamenti prescindere dalle frodi l'Europa ne le dà lo stesso no il 50% gliela ha già dati il problema della froda è che gliela ha già dati i soldi quindi li deve recuperare se non riesce a recuperarli che dice a me non interessa tu Stato non l'hai recuperato intanto tu il 50% me lo devi dare perché io non voglio sapere ragione dopodiché poi si vede sul resto sui fondi strutturali è ancora meglio perché non c'è una norma di questo tipo c'è una norma a monte cioè quando ogni anno al 31 di dicembre i paesi cioè fanno una certificazione alla commissione sui diversi programmi in particolare FESR e Fondo Sociale Europeo il FESR è quello che serve allo sviluppo per realizzare tutte queste iniziative di sviluppo regionale e si chiama Fondo di Sviluppo Regionale FESR e l'altro il Fondo Sociale Europeo che serve invece per fornire diciamo incentivi per la formazione per la riqualificazione del personale e nel periodo del Covid è stato molto utilizzato per la cassa integrazione di guadagni quindi per sostenere il distacco dal lavoro da parte del personale in senso lato e quindi diciamo nell'ambito della programmazione 2014-2020 il Fondo Sociale Europeo insomma ha bisogno invece di operazioni di attività che risultano essere molto carenti in quest'altro caso alla fine di ogni anno 31 dicembre ogni paese fa la sua certificazione e dichiara quanto ha speso rispetto alla sua programmazione questa certificazione va in Europa e deve essere viene rendicontata e deve essere che poi è molto simile a quello che succederà col PNRR la certificazione lo fa il governo italiano o il governo no no lo fa no perché sui fondi ordinari ogni regione ha il suo POR si chiama e quindi ogni regione deve fare la sua certificazione periodica che cosa succede che se nel frattempo di fondi indiretti sì stiamo parlando di fondi strutturali per capirci fondi strutturali allora questi fondi strutturali che succede che se io non ho il nella mia dichiarazione dovesse individuarsi qualche operazione irregolare che non viene accettata il sistema europeo la chiude subito e dice senti a me non interessa la devi togliere dalla certificazione quindi te la carichi tu a Italia sul tuo gruppone e te la devi vedere tu tutta quanta da recuperare quindi fa un'operazione di ripulitura della sua situazione scambiandola perché ovviamente c'è un dare avere continuo fino a quando non finisce la programmazione dopodiché quando sta finendo la programmazione e il genere che succede con le irregolarità e le frodi che si annidano verso la fine cioè a metà e fine perché si fanno più controlli e quindi arrivano verso la fine a quel punto nella certificazione finale la commissione si riserva un certo tempo per verificare se è tutto regolare o no e se non è regolare poi ci sono tutta una serie di dare avere in cui lo Stato deve impegnarsi a restituirle anche in termini di compensazione con altri fondi quindi diciamo che alla fine se lo Stato non recupera per tempo il danno diventa esclusivamente nazionale restituire l'Italia sulla base del Maria Teresa guarda rettifiche ce ne sono diverse alcune rettifiche eccomi ciao Maria Teresa ciao dimmi Maria Teresa senti dimmi non ti ho interrotto prima perché ti faccio una domanda cumulativa una è come fa il fondo di rotazione da cui passano queste somme a far quadrare i conti se non riesce a tenere in tempo reale collegate le partite attive da quelle passive e soprattutto come si fa visto che non c'è nemmeno una corrispondenza da contabilità speciali perché poi ci sono le sanzioni e quindi no no c'è la contabilità Aldo se tu ti riferisci al PNRR o ai fondi in generale perché sono due concetti diversi no io mi riferisco a quel sistema inaugurato dall'Amadori che non mi risulta modificato no 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 allora aspetta 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 che ti faccio tutta la domanda ti faccio tutta la domanda non so se so rispondere la seconda parte della domanda è quando hai parlato dei livelli che lì mi interessa per ragioni extra europee perché i livelli tu parlavi di livelli che risultavano al catasto o mi sbaglio? no io parlavo non di livelli parlavo di accertamenti catastali che davano anche in conservatoria che davano la visura di quello che era il regime delle proprietà in modo tale da non far fare dichiarazioni false o da verificarle subito il regime delle proprietà qual era la parte problematica? erano solo gli erevi l'autocertificazione perché se tu dichiari una cosa che non è vera no 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 sono d'accordo ma il problema è se la non corrispondenza dipendeva dalla lontananza nel tempo dei trasferimenti non regolarizzati con le successioni che chiaramente allargano la marea dei parenti potenziali che possono intervenire in modo geometrico oppure se il problema verteva sulla pienezza del diritto soggettivo perché livello è in genere un termine con cui i primi accatastatori mettevano insieme vari titoli addirittura di tipo preunitario tra cui gli usi civici ecco questo volevo sapere no no allora il problema era l'uso abuso delle autocertificazioni in assenza di verifiche io ho citato perché in materia agricola è stato molto evidente è stata una fattispecie ricorrente ripetuta che continua ad essere perché diciamo la persona me l'ha chiesta ma nonostante che la corte lo abbia detto e ridetto in tutte le salse continua ad essere un criterio guida quello dell'autocertificazione e devo dire che poi l'autocertificazione diventa purtroppo un vulnus anche in altre realtà che non hanno niente a che vedere con la proprietà ma che sono legate all'uso abuso nazionale di dire il falso cioè di non dire il vero ma infatti l'autocertificazione non è un titolo idoneo anche se qualche notaglio però di dare i soldi Aldo anche se qualche notaglio come tu ben sai appartenendo a nobile famiglia di notai chiaramente ci sono anche notai d'accatto i quali firmano tutto e magari mettono in crisi i notai seri però al di là al di là di questo il fatto che mi mi colpisce è che probabilmente dietro queste diciture c'erano situazioni non sistemabili nel senso che magari c'erano diritti imprescrittibili perché altrimenti esiste quel vecchio istituto è un abuso diffuso non sono situazioni come dici tu legate alla contenziosa c'è stato c'è stato un periodo in cui praticamente si faceva anche l'usucapione abbreviata per mettere per mettere per mettersi al riparo da queste situazioni adesso c'è questo abuso dell'autocertificazione però rimane il fatto che dopo l'unità d'Italia questa dicitura a livello che nasce dal diritto privato ha cambiato ha cambiato proprio significato nel senso che il livello è diventato invece qualsiasi peso o donere proprio il contrario perché mentre il livello privatistico si rimuove con l'accordo delle parti comunque negli altri casi ci sono terzi soggetti a cominciare appunto dalle collettività locali che non possono essere pretermesse e allora mi interessava saperlo del Piemonte perché il Piemonte è una zona che comunque ha delle comunità antiche che si riuniscono in ragione delle coltivazioni che si facevano delle tradizioni eccetera eccetera questo ti chiedevo se per caso non era diciamo che un fenomeno che io ho trovato riprodotto in varie regioni ma non non è qualificato da quello che dici tu legato alla storia e alla tradizione delle situazioni pregresse assolutamente no ma è una modalità comoda dovuta al fatto che non vengono fatti i controlli a monte e quindi tu facili ma il controllo a monte in realtà dovrebbe essere fatto sulle modalità con cui è stato scritto livello non mi spiego non riesco a no ma la modalità scusami è che se io devo avere un finanziamento io ti posso pure ammettere ma nel momento in cui ti do i soldi io la verifica la faccio questo è quello che gli è stato spiegato ma ti faccio un esempio nel Lazio ma sarà la stessa cosa col Po ci sono un sacco di oneri o balzelli dovuti al consorzio Tevere al consorzio Nera eccetera eccetera allora in questi casi in realtà il proprietario non ne ha mai saputo nulla quindi l'autocertificazione che fa probabilmente è vera perché lui sa che non c'è stato nessun peso non è stato acquistato libero però scusami se il proprietario fa l'autocertificazione i soldi se li prende qualcun altro qualche problema se lo dovrà porre poi ma chi è qualcun altro chi li dovrebbe prendere il Tevere il Nera facendo l'esempio no io dico cioè in genere nei casi che io ho rilevato che purtroppo sono tanti la persona che ha preso i contributi non aveva titolo a prenderli e questo accertamento non è stato fatto praticamente stai dicendo che dei due litiganti il terzo code nel senso che probabilmente si è intromesso qualcuno che ha ottenuto la detenzione diciamo così del bene e l'ha trasformata in diritto soggettivo in proprietà attraverso l'autocertificazione per non parlare di tutta la casistica sulle quantità perché tu fai una dichiarazione che poi non corrisponde se non si fanno i controlli non corrisponde alle quantità dichiarate che tu dici di fare che poi è un po' affine alla questione delle piante di cui mi parlava lei cioè se tu dici che c'hai che ne so 8 ettari coltivati invece ne hai coltivati la metà prendi contributi per la quantità di ettari complessiva che quella non è una truffa è anche una frode quindi voglio dire situazioni di questo tipo ce ne sono ce ne sono state diverse prego scusa Aldo ma c'è una domanda la questione era sul suolo urbano digitativo comunque la mia domanda era un'altra rispetto a a fondi non europei per fare un esempio sempre riguardo l'accuso delle autocertificazioni è stato il caso dell'evento di cittadinanza qui però non si riesce a sentire perché non viene vicino a te ha fatto riferimento al debito di cittadinanza quindi all'abuso dell'utilizzo di fondi che non spettavano ho capito sì diciamo che è abbastanza diffuso ma questo è legato sempre al purtroppo alla modalità italiana che non c'è nessun tipo di accertamento e che i fondi vengono erogati e poi si fanno i controlli dopo invece in molti casi andrebbero fatti andrebbero fatti prima anche perché in alcuni casi si è facilitati dalle banche dati però voi avete sicuramente lette una delle riforme che doveva passare quella del PNRR che era quella del Catasto e come avete visto è sospesa quindi diciamo alcune riforme di una certa utilità scusate io ho il telefono che staccherei mi sono dimenticata di stacchiare scusate un telefono è bizzarrito eh infatti infatti ho chiuso l'altra cosa che vi volevo ovviamente tutto questo di cui stiamo parlando allora i fondi principali che vengono dati sempre per il famoso principio di solidarietà ai paesi membri sono diciamo nell'ambito delle finalità che sono diversi ma diciamo i due principali sono il fondo per l'ambiente e l'agricoltura che è un fondo storico e poi il fondo per lo sviluppo diciamo la parte sulla coesione che ha in sé sia l'interesse per il lavoro sia l'interesse proprio per lo sviluppo dei paesi attraverso come vi dicevo il fondo sociale europeo però non è finita qua perché questi sono i cosiddetti fondi strutturali che hanno una gestione del bilancio di tipo indiretto allora se noi andiamo andiamo ulteriormente avanti nella gestione nella gestione degli interessi finanziari c'è un principio fondamentale che è il principio della sana gestione finanziaria è previsto dall'articolo 310 dell'articolo 317 previsto dall'articolo 325 quando parla di cattivo uso e quindi di frodi e questo principio cardine che poi viene ripreso anche dal regolamento finanziario è stato nel 2020 con il regolamento 20-20-92 ulteriormente ulteriormente diciamo supportato da un principio fondamentale che è quello della condizionalità legata al sistema legale nel senso che la gestione non solo deve essere efficiente efficace ed economica ma deve essere soprattutto connessa con parametri di legalità sia nei confronti diciamo delle modalità sia nei confronti dei soggetti e del loro ruolo questo principio di condizionalità è stato anche quello che è partito per colpire diciamo il comportamento di alcuni paesi quelli di cui si parlava stamattina serve però anche a sottolineare che la sana gestione non può che essere una gestione che rispetti il principio di legalità dei suoi componenti e dei suoi e dei giudici e che il sistema del paese deve essere anche un sistema che ha delle garanzie che vengono espletate e definite da soggetti che appartengono alla magistratura e che è una magistratura che viene tutelata e questo ha anche relazione a fenomeni assolutamente negativi che si sono verificati nei paesi a orientamento sovranista nei quali anche la magistratura ha subito notevoli limitazioni e quindi proprio per il discorso che si faceva stamattina sul fatto che l'Europa non può essere considerata un bancomat il correlato della sana gestione è che se tu non hai dei comportamenti legalmente accettabili significa che non puoi gestire il bilancio perché lo gestisci non in modo non attuando il principio della sana gestione e quindi poi ci sono state appunto quelle posizioni anche della Corte di Giustizia quando vi parlavo della differenza che c'è tra la Corte Europea e la Corte Italiana e col fatto che uno è giudice e un altro è in istituzione superiore di controllo ricordatevi che l'unico giudice che c'è diciamo nel sistema dell'Unione è la Corte di Giustizia è il Tribunale di prima istanza ed è il giudice anche che quando sono stati individuati i parametri di Maastricht e poi successivamente tutti i trattati sui six packs non si poteva dare alla Corte dei Conti l'esame di questi principi anche se sarebbe stata la più competente dal punto di vista tecnico ma la tutela qualora diciamo vi erano da parte degli stati dei profili di lesione è sempre stata la Corte di Giustizia quindi ricordatevi che c'è questa differenza in Italia la Corte dei Conti italiana è un giudice anche con caratteristiche diverse rispetto agli altri giudici vabbè il principio di sana gestione finanziaria lo trovate anche nel regolamento diciamo oltre appunto all'economia l'efficienza e l'efficacia c'è pure questo principio che viene tratto come vi dicevo prima dal dall'articolo dall'articolo dal 2020 del 2092 del 2020 perché questo regolamento sullo Stato di diritto è diventato è diventato molto è diventato molto molto importante dopodiché il io direi che se non ci sono se non ci sono domande possiamo passare ad analizzare le forme di gestione del bilancio dell'Unione per capire anche la differenza di approccio che ha la commissione nei confronti dei vari stati membri allora il sistema europeo prevede almeno tre tipi di modalità di gestione del bilancio la gestione diretta la gestione concorrente e la gestione indiretta la gestione questi queste forme di gestione vengono definite sempre dal regolamento finanziario e hanno ovviamente un impatto diverso sugli stati membri dopodiché vi farò una differenza con quello che dice il regolamento 241 in materia di PNRR allora per quanto riguarda la gestione diretta si tratta di quei fondi che vengono direttamente gestiti dagli uffici della commissione e che comportano non un rapporto diretto con lo stato ma con i singoli che partecipano in quella relazione con l'unione con la commissione si tratta di fondi legati alla ricerca si tratta di fondi anche alcuni fondi di interesse particolare che riguardano anche la possibilità di sviluppare formazione europea in vari paesi quindi diciamo sono tutti fondi ai quali partecipa il singolo e c'è una risposta diretta nei confronti dell'utilizzo di questi fondi da parte della commissione per cui se il fondo diciamo se c'è un'inosservanza di questo fondo il rapporto è direttamente non con lo Stato ma con il singolo che ha avuto la 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 sovvenzione c'è stata un diciamo che questi fondi sono rilevanti in alcuni casi sono anche abbastanza rilevanti soprattutto quelli sulla ricerca per esempio diciamo un po' di tempo fa c'è stato un grosso scandalo di una di una frode che riguardava non solo l'Italia ma anche vari paesi membri che era stata fatta proprio sulla sulla ricerca e il il danneggiato in questo caso era direttamente l'ufficio legale della commissione quindi la commissione europea l'Italia è intervenuta anche attraverso le nostre le nostre procure e procure regionali e diciamo ha dato il proprio ausilio nell'indagine e poi nel perseguire i colpevoli che erano in parte italiani in parte di altre nazioni perché lì era stato creato un progetto collegatamente con tutto un sistema internet di cui però non esisteva nulla cioè esisteva solamente il sito e non c'era nessuno una volta presi soldi che potesse effettivamente sviluppare quella ricerca che era stata così ampiamente pubblicizzata lì l'errore a monte ovviamente è stato anche dei funzionari della commissione che non avevano fatto gli opportuni controlli e allora nel caso nostro l'elemento che vi voglio sottolineare è stato molto importante perché nel caso di gestione diretta il fondo è la responsabilità è direttamente della commissione quindi come vi dicevo lo Stato non c'entra quindi in quel caso l'Italia ha per quella parte italiana fatta l'azione di responsabilità è condannato i responsabili con un passaggio anche particolare perché ovviamente gli imputati hanno sollevato questione di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Corte per un principio di cui volevo parlare dopo ma mi parlo adesso che è il principio di assimilazione cioè tu fai per l'Europa le stesse cose che faresti per la tutela di un interesse nazionale e per questo principio la Corte di Cassazione ha detto che la giurisdizione era giusto che fosse incardinata in Italia presso l'Italia anche se si trattava di fondi di fondi diretti in generale quindi il problema se lo deve porre la commissione quando ci sono queste frodi o queste irregolarità cosa molto diversa quando si tratta dei famosi fondi strutturali in cui invece la gestione è una gestione concorrente è una gestione concorrente perché concorrono appunto insieme come dice il termine la commissione e lo stato membro e quindi c'è una corresponsabilità e quindi lo stato membro una volta che riceve questi fondi è anche obbligato a porre in essere tutta una serie di misure per evitare le frodi per evitare le irregolarità o qualora le stesse vengono accertate per cercare di recuperare e quindi da lì nascono poi tutta una serie di problemi di dare avere nella misura in cui questi fondi non si riesce a recuperarli e quindi è lo stato che poi risponde nei confronti nei confronti della commissione ed è quello che succede nell'ambito abitualmente dei fondi strutturali in cui ogni regione ha i cosiddetti POR che sono il programma regionale con determinati obiettivi e questi seguono una programmazione settennale adesso con un certo ritardo e partirà la programmazione dico partirà perché siamo al 2023 ma la programmazione è 2021 2027 e diciamo è stata approvata in ritardo perché c'è stato il Covid quindi la programmazione precedente che ha avuto una proroga tant'è vero che la programmazione 2026 2014 2020 si chiuderà nel 2023 a dicembre 2023 con la rendicontazione e le risorse che sono state assegnate nei vari settori sono state assegnate sulla base di programmi concordati alle varie regioni dopodiché abbiamo la terza forma di gestione del bilancio con una forma meno nota che è la gestione indiretta in cui si dà l'incarico ma in genere viene fatta viene la gestione indiretta viene utilizzata per particolari casistiche che riguardano la BEI organismi internazionali quindi diciamo di minore di minore impatto che cosa succede invece nell'ambito del Next Generation o in particolare del PNRR quando diciamo l'articolo 8 del regolamento fa riferimento nei confronti del 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 PNRR a una gestione diretta cioè quindi in pratica sarebbero i singoli a dover rispondere nei confronti della commissione ma in serie di approvazione del regolamento e di tutti i contatti e delle e dei confronti e delle raccomandazioni che sono state fornite anche dalla Corte dei Conti europea dal Parlamento è emersa una diversa configurazione per cui se voi leggete il regolamento 241 quello appunto sul Next Generation U trovate che è pieno di obblighi nei confronti dello Stato membro che assume diciamo obblighi che riguardano la prevenzione dalle frodi la prevenzione del conflitto di interessi la prevenzione dalla la prevenzione dalla dalla corruzione tutti questi obblighi fanno carico allo Stato membro che deve apprestare su sistemi di controlli adeguati perché non si verifichino in forma più blanda questi questi fenomeni quindi rispetto al al la la gestione del bilancio di tipo diretto quella originaria c'è una bella differenza perché io a quel punto non ho solamente il beneficiario del fondo che è responsabile ma la garanzia è data dallo Stato dallo Stato di riferimento del resto diciamo l'Italia prego questi obblighi che erano richiesti nel regolamento e poi sono stati attuali no sono stati richiesti nel regolamento allora il regolamento ha varie fasi cioè non è che un giorno si sveglia il Parlamento e fa il regolamento il regolamento è fonte di rapporti fra il Consiglio che sarebbe l'organo politico e il Parlamento in tutti questi scambi continui fra il Parlamento e il Consiglio perché allora come succede gli altri normativi come funziona in Europa in genere c'è un potere di iniziativa della Commissione però poi ha tutti questi passaggi chiedono anche possono chiedere anche un parere alla Corte dei Conti alla Corte dei Conti europea in tutti questi passaggi probabilmente per la preoccupazione che le risorse in gioco potessero essere diverse perché il Next Generation U quello approvato con il 2094 regolamento 2094 del 2000 del 2000 prevede 650 miliardi di questi 650 miliardi c'è stata una distribuzione fra i vari paesi e l'Italia è stato ovviamente il fruitore maggiore quindi questi obblighi non è che sono solo per l'Italia sono per tutti quelli tutti i paesi che hanno ricevuto questi finanziamenti sotto le due specie perché noi abbiamo fondo perduto quindi una sorta di grams di regalo cioè si fa per dire però si fa comunque di grams l'Italia ne ha avuti 68 miliardi e gli altri invece prestiti diciamo questa formula è una formula un po' originale diversa perché non è più il fatto dei contributi dei paesi membri che vengono divisi con il principio di solidarietà come vi dicevo prima nella composizione originaria fra i paesi ma diciamo sono state fatte delle azioni sono state emesse delle azioni e il prodotto di questa attività ha determinato una quantificazione dei fondi quindi diciamo su questa iniziativa l'econvolgimento dei paesi poi alla fine è sembrato inevitabile perché non era necessario che i paesi proprio si impegnassero per la restituzione l'Italia in modo particolare perché a parte grams 68 miliardi c'è 121,5 miliardi di prestiti quindi diciamo somme consistenti che devono essere restituite quindi c'è c'è questa da una parte l'individuazione della nomenclatura che lo individua come gestione diretta l'articolo 8 però poi sostanzialmente non lo è quindi insomma diciamo in realtà è più simile al concorrente quindi più simile a quello che si fa con i fondi strutturali quindi c'è una responsabilità condivisa tant'è vero che poi nei regolamenti attuativi e in quello che lo Stato sta facendo sulle proprie sulle proprie con le proprie norme è quello di dire che le varie allora in Italia che cosa è successo in Italia c'è stata una gestione al momento centralista cioè la cabina di regia è centrale lo era anche prima presso la presidenza del Consiglio e presso il MEF poi adesso c'era sia centrata maggiormente adesso nei confronti della presidenza del Consiglio ma i ministeri sono stati quindi una gestione centrale hanno avuto e vengo alla precedente domanda anche se non l'avevo omessa hanno avuto a livello centrale un fondo un fondo fuori bilancio che è il fondo di rotazione in cui ricevono i soldi da Bruxelles questi soldi che loro ricevono in un fondo speciale che è un fondo staccato dai fondi perché è proprio fuori bilancio loro distribuiscono questi fondi ai soggetti non alle amministrazioni ma ai soggetti che hanno vinto i bandi quindi con un sistema diffuso in cui tutti i ministeri o la maggior parte dei ministeri hanno fatto i bandi i singoli soggetti anche territoriali hanno concorso a questi bandi ma senza una chiave di lettura unitaria per cui poi chi ha presentato un bel progetto a prescindere dal fatto se lo potrà realizzare o no se ha le forze per realizzarlo se è grande se è piccolo se ne ha altri perché quello che fa il ministero dell'ambiente non lo sa quello che fa il ministero della ricerca non lo sa quello che fa il ministero dei trasporti non lo sa quello che fa il ministero della pubblica istruzione e così via il ministero degli interni quindi voglio dire si è creato un sistema non molto razionale soprattutto nella ricaduta territoriale tenendo conto delle condizionalità la condizionalità di cui parlavamo prima è la condizionalità del sud che deve avere il 40% delle risorse la condizionalità delle donne la condizionalità legata quindi alla tutela del genere e la condizionalità legata ai giovani ma anche sulle altre due che sembrano più semplici quella dei giovani e quella delle donne i problemi sono tanti perché diciamo se tu non assicuri anche nell'ambito dei bandi la possibilità di avere qualche riservo delle riserve cioè alla fine non lo assicuri il principio altra cosa c'è un altro principio un'altra condizionalità molto forte che è quella di non produrre danno all'ambiente che viene messa dappertutto produrre danno all'ambiente significa che io devo ridefinire anche tutti gli interventi funzionali faccio un'ipotesi faccio una strada lavoro per riadattare la strada per fare la manutenzione quello che è mi devo preoccupare di mettere delle colonnine per l'elettrico perché in realtà io vado potenziando un certo tipo di attività che è legato alla riduzione e alla maggiore tutela dell'ambiente e così via ma accanto a questo problema ci sono vari vari tipi di problemi a mio giudizio insomma sono stati oggetto anche di una di una relazione recente nell'ambito dell'impatto territoriale il problema più grande è che gli enti territoriali non sono tutti uguali hanno dimensioni diverse hanno grandezze diverse hanno difficoltà diverse e quindi se io ho un soggetto di piccole dimensioni assegno grandi risorse faccio cioè do certamente preludo a delle potenzialità ma le potenzialità le devo supportare le devo aiutare ma a livello territoriale pochissimi sono stati gli interventi di assunzioni dal punto di vista sia tecnica che amministrativa anche perché poi il territorio che deve fare deve fare lavori quindi cominciando dal fare le gare deve fare le gare deve essere una stazione appaltante ma un ente di piccolissime dimensioni non sa nemmeno da dove cominciare e magari in un caso non deve fare solo una gara deve fare 5 6 7 e quindi il lavoro è quello di cercare in questa fase tenuto conto che poi noi abbiamo il 2026 come termine non è che abbiamo gli anni di cui parlavamo stamattina quindi noi abbiamo 121 e passa milioni compreso il 191,5 milioni compreso di cui il 68 sono quegli altri ma se ci mettiamo anche il piano complementare di 30,62 milioni abbiamo 235,12 milioni miliardi scusate diciamo fermiamoci a quelli che dobbiamo spendere nel 2026 perché per fortuna sul complementare qualche abbiamo qualche tempo in più aver parcellizzato così tanto gli interventi e non averli concentrati se non in alcuni casi su diciamo su tanti enti significa aumentare notevolmente i rischi di realizzabilità ma forse anche di di realizzabilità ma anche di qualità degli interventi e forse anche di processi di legalità nel senso che indubbiamente quando gira tutto questo denaro una serie di problemi si pongono se io non sono in grado di fare molti controlli a monte altro problema la fretta non è mai una buona consigliera però la fretta è stata legata al fatto che è arrivato nel 2021 diciamo i bandi sono iniziati fra la fine del 21 in questo modo così razionale di cui vi parlavo perché in realtà ogni ministero ha fatto i suoi bandi alcuni bandi erano veramente difficili e incomprensibili quindi a quel punto la finalità era quella di creare maggiori vantaggi per le situazioni più svantaggiate ma in realtà io per capire alcuni bandi avevo bisogno di avere una struttura che aveva già delle caratteristiche quindi in alcuni casi per esempio sui bandi relegati agli asili dove hanno concorso moltissimi per esempio diciamo comuni dell'Emilia Romagna a un certo punto hanno dovuto dare un blocco sospendere per evitare che poi chi era già abbastanza fortunato nella scelta di questi di questi beni potesse ulteriormente abbandaggiarsi e quindi poter rispettare la condizionalità per esempio sui musei sugli asili hanno avuto una serie di ritardi dovuti anche dovuto anche a questi nel 2023 un po' di lavori inizieranno allora per quanto riguarda il Piemonte che ha 1189 enti locali di cui molti di piccolissime dimensioni 50 60 70 abitanti ripeto vi dicevo stamattina noi abbiamo individuato che c'è un ente che ha 87 abitanti che ha finanziamenti per 20 milioni deve fare moltissime cose e adesso lo terremo sotto sotto osservazione per capire chi come quando riusciranno a realizzare tutti questi interventi diretti anche molto diciamo sulla carta bellissimi però tenendo conto che questo comune andrà assolutamente supportato però chi lo supporterà a parte la provincia che già ha dichiarato che farà la stazione appaltante è tutto da individuare nell'ambito di queste finalità che poi sono quello sapete benissimo sono sei missioni grandi missioni che sono diciamo la più sponsorizzata è proprio la rivoluzione verde quella legata alla transizione ecologica che è la prima fra il complementare quello nazionale sono circa 70 miliardi 69,94 poi c'è la digitalizzazione che è il secondo posto occupa 49,86 miliardi poi c'è l'istruzione e ricerca ecco un grosso contributo è stato fornito alle università ecco però mi è capitato di avere un contatto con un rettore perché mi sono occupata di un'attività non di questa di questa università e diciamo prospettive anche in termini di ricerca ce ne sono tante ma se poi queste prospettive alla fine del sese del sese insomma fino al 2026 si definiranno una migliore e diversa organizzazione dell'università è tutto da vedere probabilmente no quindi posti da ricercatori da professori non aumenteranno cioè quindi voglio dire anche questo poi diventa molto molto meno produttivo poi diciamo il quarto obiettivo è quello delle infrastrutture per una mobilità sostenibile e poi l'inclusione e la coesione questo per esempio a livello territoriale è molto molto seguito perché ha varie facce a facce di natura inclusiva come di interventi sul sociale ma anche altre cose molto importanti che riguardano anche interventi sugli immobili sull'urbanizzazione ecco il difetto di questa misura per esempio è che sono stati riciclati moltissimi progetti vecchi cioè sono stati presi moltissimi progetti che riguardavano le urbanizzazioni oppure che erano state varate con le finanziarie precedenti ma non ancora realizzate e sono state diciamo poste in circolazione quindi si tratta per lo meno io quello che ho visto in Piemonte di molti finanziamenti di piccole entità 50.000 euro 100.000 euro quindi diciamo anche quello la realizzazione e poi i controlli di tutte queste piccole microattività sarà veramente problematica e poi veniamo alla salute la salute devo dire sembra il parente povero perché nonostante sia stata la causa no di tutto questo grande afflato di interventi diciamo finanziari e in realtà ottiene 15,5 miliardi con il complementare arriviamo a 20 miliardi ma qui si pone un problema che io ho sollevato proprio questa relazione e che è un problema che vale anche per gli asili per le scuole allora il PNRR come tutti i programmi europei non prevede la possibilità di assunzioni stabili ma prevede assunzioni temporanee che servono per realizzare quel progetto finito il quale però le persone ritornano da dove sono venute quindi i contratti che sono stati fatti fino a ora sono prevalentemente contratti triennali saranno contratti triennali ma sulla sanità come anche sulle scuole se io investo per creare delle strutture non è che poi le chiudo cioè dopo il 2026 non è che chiudo le case di comunità gli ospedali di comunità e ne chiudo nemmeno gli asili perché fra l'altro lì sugli asili c'è una valutazione la leitmotiv è noi siamo rispetto all'Europa a un livello più basso nella costruzione degli asili ma lì la domanda è anche un'altra facciamo una valutazione sulla natalità nel senso che l'asilo serve se io ho bambini piccoli dalla fascia di 0 anni fino a 3 anni oppure 3 anni in su per mandarli agli asili ma fatta questa valutazione dato che è scontato che dobbiamo arrivare a quei livelli perché diciamo abbiamo una natalità a fine nel 2026 quando io ho costruito gli asili ho li ho ristrutturati ho investito parecchi miliardi nella in questa attività nelle palestre perché ci sono anche le attività parallele che faccio dico agli insegnanti guarda abbiamo scherzato dopo il 2026 è finito no è la stessa cosa che vale per i medici io devo entrare nella logica di una spesa corrente che è molto impegnativa ma per tenere quelle strutture in piedi se no è un finanziamento che non ha non ha senso quindi diciamo è sprecato è uno spreco di denaro pubblico nazionale e dell'unione quindi non so ecco bravo io volevo appunto stimolarvi un po' perché non voglio parlare solo io per la sanità si parla sempre di carenza di medici infermieri quindi magari le assunzioni potrebbero essere anche in parte giustificate perché sì il problema è un po' più presente anche perché il caldo demografico è costante da anni cioè insomma non vedo come tutte quelle assunzioni temporane che saranno come dice lei fino al 2026 per adesso e dopo dovranno essere convertiti in contratti a tempo indeterminato o? Allora diciamo se io ritengo che le costruzioni che io farò per gli asili siano giustificate da una valutazione demografica perché voglio dire parliamo di programmazione qua no? grosso modo adeguata e allora io mi devo preoccupare in prospettiva comunque sia del fatto perché se ritengo che le devo fare per le strutture perché i bambini ci saranno e allora devo anche tenere i maestri e i maestri gli insegnanti che fanno lì e fanno quel lavoro non è che poi le manda a casa alla fine del 2026 e i bambini che sono che stanno crescendo cioè che arrivano dove li metti cioè chi gli dà questa didattica e la stessa cosa vale per i medici allora secondo me il problema è analogo in termini di reclutamento è un problema però differente in termini di tempo perché probabilmente per fare la programmazione di un sistema sanitario la programmazione è molto più lunga e molto più complessa quindi se non ci si pensa anche perché ho bisogno del medico la specializzazione quindi parliamo di un decennio almeno se io non penso per tempo a come lavorare sul numero chiuso a medicina sul numero chiuso alle specializzazioni che è il problema che noi abbiamo oggi noi attualmente io l'ho scritto anche nell'inaugurazione recente dell'anno giudiziario insomma se ne è parlato pure abbastanza sul fatto che in realtà andiamo a individuare delle formule sul sistema sanitario che sono quanto di più deleterio ci possa essere sia sotto il profilo dei costi sia sotto il profilo della qualità della prestazione sicuramente avete letto c'è il famoso problema adesso dei medici gettonisti che sono i medici turnisti che vuol dire il medico turnista è un medico che appartiene a una cooperativa non è più in una struttura pubblica ma appartiene a una cooperativa e fa una valutazione del turno che gli viene molto pagato molto super pagato e quindi nel giro di 3-4 turni in un mese lui recupera quello che recupererebbe se fosse inserito in una struttura ma con quali inconvenienti enormi perché in realtà un medico che fa i turni in strutture diverse non ha non solo nessun rapporto col paziente non assicura nemmeno una qualità assistenziale adeguata perché un medico che sta in una struttura come tutti noi diciamo che siamo nelle strutture abbiamo una relazione costante con la struttura quindi non solo con i pazienti e con i malati ma anche con chi sta sopra di me con chi ne sa di più io posso imparare in questo modo soprattutto nei pronti soccorsi stanno succedendo delle cose turche io ho verificato noi facciamo allora un controllo che fa la Corte dei Conti anche un controllo sulle aziende sanitarie aziende sanitarie e aziende ospedaliere questo è un fenomeno che noi abbiamo individuato già da qualche anno ma adesso è proprio così accentuato sia in termini di costi che di carenze che anche ospedali che prima riuscivano ad organizzarsi anche con dello scambio specialisti fra un ospedale e l'altro non ci riescono più altro problema si fanno le gare per le cooperative a parte che ci potrebbe essere un artificioso frazionamento della gara quindi in realtà io faccio una gara da 100 poi ne faccio una da 50 poi ne faccio una da 75 quindi non arrivo mai anche a dover fare delle gare di un certo tipo ma poi io faccio una gara al massimo ribasso ma qui parliamo della salute della gente io non posso fare una gara al massimo ribasso bisogna fare uno studio approfondito per vedere quali possono essere i criteri e gli standard più adeguati terza cosa il medico in un ospedale deve fare i turni ma deve rispettare delle regole nei turni nel senso che più di un certo numero di ore non può fare ma se quello cambia ogni sera ogni notte ogni notte ospedale ma chi glielo fa questo controllo la cooperativa che è quella che è la beneficiaria della convenzione cioè e tutti questi elementi allora io li ho scritti in una lettera e li ho mandati al ministro della salute non ho ancora avuto risposta vabbè una lettera recente devo dire che insomma possiamo aspettare una lettera che io ho mandata alla fine di dicembre però non non ha ancora risposto e secondo me è un problema molto serio in termini di prospettive anche sul sistema infermieristico il problema è simile però più risolvibile perché lì diciamo c'è un potere contrattuale della regione che si sta organizzando anche con delle scuole o meglio il problema qual è è che sia sugli infermieri sia sui medici una volta che loro avevano quei pochi posti della specializzazione il medico poi siccome era molto veniva poteva scegliere se non gli piaceva quel posto dove aveva fatto la specializzazione se ne andava in un altro posto e quindi loro avevano investito in una persona che poi però non corrispondeva adesso invece sugli infermieri stanno facendo un'operazione di questo tipo con le università vicine ai centri ospedalieri e quindi poi hanno visto che questa cosa può mantenersi ma sul numero chiuso delle specializzazioni e sul numero chiuso dei medici non ha nessun potere la regione come giusto che sia perché la regolamentazione è nazionale quindi il problema è proprio nazionale e siccome in realtà stiamo prendendo medici dall'estero da Cuba dall'Albania da dovunque stiamo sperimentando varie formule e questa è per esempio una classica ipotesi in cui io rischio di vanificare 15 miliardi e 500 milioni che io dedico a questo fenomeno cosa le faccio a fare le case di comunità gli ospedali di comunità per ravvicinarmi all'assistenza domiciliare se poi non la posso non la posso seguire quindi in prospettiva bisognerebbe fare questi ragionamenti ma voi non sapete ma Aldo lo sa sicuramente purtroppo la spesa corrente poi incide sul bilancio dello Stato in primis e poi delle amministrazioni locali territoriali delle aziende e compagnia ma bisogna riflettere in termini di prospettiva su questo su questo fenomeno perché è un fenomeno abbastanza abbastanza grave però questo è anche colpa diciamo del PNRR cioè come se ne può subirebbe da applicare colpa direi no no direi no 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 colpa direi di no cioè il PNRR sta accentuando un problema il PNRR sta accentuando il problema perché ti dice tu vuoi fare meglio e io sono d'accordo peraltro la popolazione italiana è una popolazione di anziani più che di giovani allora diciamo tendenti anche ad avere bisogno di cure no quindi diciamo quindi il rapporto domanda e offerta c'è non è che dice tu vuoi fare una cosa proprio fuori per cui vuoi spendere soldi e non hai l'esigenza di coprire un servizio no l'esigenza c'è il problema però è trovare un modo di coprirlo in modo stabile nel tempo perché se no ripeto nel 2000 a parte che non trovi i medici che vengono per due anni tre anni non li trovi perché avendo questo mercato loro dicono scusa ma sai che mi dici io vado alla cooperativa mi prendo sono un autonomo mi pago i contributi perché poi essendo un autonomo uno fa partita IVA però lavoro quanto mi pare cioè nel senso lavoro tre quattro giorni al mese e poi sono libero dall'altra parte tutto un discorso connesso perché poi voi avete sicuramente letto che diciamo esiste un problema legato anche che è stato accentuato dal covid che sono le liste d'attesa il discorso che poi la gente non possa fare delle prestazioni accertative per tempo perché non ci sono le strutture e poi c'è l'accentuazione forse di un sistema privatistico anche ai fini della specializzazione perché sono specializzazioni che tirano il mondo privatistico che vengono molto più frequentate di altre che invece sono anestesia per dire la frequentano meno però ripeto insomma se si fanno delle programmazioni bisogna tener conto di tutta questa realtà quindi diciamo che il discorso andrebbe visto in un'ottica molto molto più ampia e però sbloccando il problema dei medici perché la carenza dei medici è veramente un problema serio prego parli forte perché se no il collega non sede Aldo io ho perso Aldo però sempre eh prego dicevano che diventano problematiche anche i controlli fatti in ospedale i cosiddetti controlli in camere ah sì perché sono fatti da privati utilizzando strutture pubbliche giusto? sì diciamo che che però ecco lì per esempio almeno una standardizzazione c'è in altri casi no quindi voglio dire almeno come tu utilizzi il privato in quel contesto è stato individuato qui non è stato nemmeno individuato perché diciamo tu vuoi utilizzare le cooperative a parte che io ho delle riserve ma comunque devi stabilire in che modo e qual è l'accreditamento che deve avere la cooperativa se voi pensate che in Europa c'è stato un gran lavorio che è stato fatto dalla Commissione Europea per fare gli standard dei formatori i formatori adesso c'è diciamo sul Fondo Sociale Europeo c'è una sorta di standardizzazione dei costi e c'è tutta una serie di criteri per vedere qual è il miglior formatore come devono essere scelte ma qui parliamo di medici cioè addirittura scusatemi con tutto il rispetto per la formazione ma fra la salute pubblica e la formazione forse il primo posto ce l'ha la salute pubblica dopo ce l'ha la formazione e su questo non si riesce quindi non so io sono fiduciosa però anche preoccupata ma diciamo speriamo che pensino a qualcosa e devo dire che la mia stessa preoccupazione l'ha anche manifestata sotto profili diversi l'ANAC perché l'ANAC ha scritto pure lei al Ministro senza successo sottolineando una serie di profili legati proprio alla tipologia di contratto così come loro li hanno aiutati in altri casi su altre prestazioni hanno sottolineato che era particolarmente importante anche stabilire degli standard stabilire che tipo di gare si dovessero fare chi erano quali erano i requisiti che andavano richiesti anche perché non c'è nessun requisito per esempio recentissimamente insomma prima di prima di Natale all'ospedale di Alessandria è morta una giovane donna che è stata portata al pronto soccorso e la persona che l'ha seguita era un medico specializzato in chirurgia estetica con tutto il rispetto io poi non so come sono andati fatti questo è quello che ha detto il giornale e lì diciamo il pronto soccorso è un luogo molto complesso non è un luogo semplice se tu mi sbagli la diagnosi significa che mi mandi al creatore perché se pensi che è un codice bianco verde e invece io ce l'ho rosso e alla fine insomma non individui per tempo le mie problematiche e dall'altra parte sì hanno leggermente aumentato un po' i posti nell'ambito della della dei diciamo del delle specializzazioni in alcune in alcune in alcune specialità soprattutto quelle da internista ma poi oramai se c'è questa concorrenza così spinta sul mercato da parte delle cooperative è molto difficile anche trovare le persone disponibili che ci vanno quindi mentre qualche anno fa il pubblico tirava molto anche in termini di riqualificazione della persona adesso prevale quindi anche questo è un fatto negativo perché c'è questo atteggiamento più legato al denaro che non legato alla qualità della prestazione che tu puoi avere a quanto tu puoi crescere e quindi la tendenza è anche quella di avere dei medici sempre meno qualificati che non è il massimo per una popolazione anche in termini di prospettive insomma questo è quanto e poi mi viene un dubbio ma non so se si può ricollegare questa tematica a quella della coprogrammazione e coprogettazione degli altri del terzo settore perché se queste cooperative queste sono e poi dopo ci risolviamo che poi a coprogettare addirittura non sono diciamo 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 affidamenti ma vado addirittura a coprogettare i servizi questo diciamo secondo le leggi della regione toscana ma sarà anche probabilmente il nuovo codice degli appalti sì questo sul settore sanitario non ti so dire non lo so questi affidamenti che diciamo qua un po' diciamo anche da parte insomma un po' più difficile anche della vicegerita nella materia della sanità quella parte poi quando si va poi a concretizzare che deve fare appunto gli affidamenti dei vari enti eccetera quindi questo è veramente pericoloso perché queste cooperative con tutti questi limiti che le evidenzate che ci fanno anche tremare forse poi possano essere gli stessi enti gli stessi soggetti che poi programmano ma diciamo che sulla sanità ci sono degli organi degli organi preposti e quindi diciamo questa programmazione è legata alle regioni e poi allo Stato bisognerà vedere come evolverà la situazione il discorso è che diciamo va sicuramente regolamentato l'ambito ma non va regolamentato al basso quello dell'accreditamento è un requisito che non c'è il corso di formazione e poi regolamenti vabbè poi l'altra cosa che mi volevo chiedere non ho sentito l'erio parlare con il dirigente del ministero che diceva che probabilmente dato tornato tra un po' accaltare stamani le grandi opere dato che non ci sono non ci saranno i tempi per vedere in realtà le grandi opere c'erano identiche della modifica del piano no allora il discorso della modifica no no guarda il discorso della modifica è in corso diciamo un contatto una trattativa lo diceva io ho sentito un po' di tempo fa anche Gentiloni che lo diceva ovviamente devono essere delle cose che non snaturano completamente il piano che è stato approvato e del resto la tentazione di chi arriva con il piano approvato di altri è sempre quello di cambiare le carte in tavola in qualche misura su alcuni filoni però secondo me stanno cominciando a capire che già i tempi sono molto ristretti se cambi troppo alla fine non realizzi nemmeno una parte io devo dire ho trovato molto interessante il ieri c'era su Repubblica e oltre a questa particolarità delle piante che abbiamo notato insieme e alla quantificazione è anche un'agenda dei tempi e nell'agenda dei tempi c'è quello che è stato realizzato e quanto ci hanno dato e poi una sfilza di altre cose che sono le più consistenti che riguardano il 2023 2024 2025 perché no in termini di importi e anche in termini di lavori perché il discorso è che noi abbiamo avuto dei fondi legati ad alcune riforme che poi tutte da vedere quella della giustizia come se noi avessimo la giustizia che riduce i tempi per norma cioè questa è proprio veramente vabbè solo a noi può venire bene comunque è solo all'Europa a boccare ma ripeto a parte questo per esempio già devono verificare quello che abbiamo mandato al 31-12-2022 perché c'è tutta una dinamica sul fatto che non avremmo fatto tutto quello che dovevano fare quindi vediamo se questi 19 miliardi ce li danno dopodiché però c'è tutta una sfilza di altre cose che noi dobbiamo fare entro il 36-2023 entro il 31-12-2023 entro il 24 nelle due visioni e quindi diciamo abbiamo un mucchio di scadenze se no questi soldi non li recuperiamo quindi in più ripeto il discorso territoriale è un discorso veramente serio perché diciamo è stato dato tutto a tutti io allora c'è una banca dati non so se voi ne avete sentito parlare che si chiama Regis che è una banca dati che è stata costruita per diciamo volontà dell'Europa dal dal NEF e contiene in sé conterrà in sé non solo i meccanismi che riguardano il fondo il piano il piano nazionale di PNR ma anche il complementare e anche i fondi comunitari allora è diviso è ripartito per regioni diciamo e per progetti e per missioni allora io ho fatto abbiamo fatto perché ci stiamo lavorando sopra una lettura per il Piemonte il Piemonte come vi dicevo ha 1189 enti bene i progetti sono 10.000 errotti quindi con 1600 enti quindi vuol dire che gli enti li hanno avuti tutti i progetti ma c'è qualche ente che ne ha avuto più di uno quindi considerando che da me gli enti al di sopra dei 5.000 abitanti sono solo 144 quindi gli uffici tecnici quanto che cosa sarà che uffici tecnici quelli c'hanno c'hanno il sindaco hanno il sindaco e al massimo uno che è l'agrafe punto e basta quindi hanno dei problemi che gestiranno allora adesso è stata fatta subito dopo la finanziaria con un DL di febbraio un'apertura ma riguardo i segretari comunali i segretari comunali nel senso che è stato previsto che c'era un concorso in atto ne assumono non so quanti in più per queste operazioni ma il segretario comunale non basta anche perché diciamo se bisogna fare delle verifiche allora intanto c'è il problema poi quando sarà ma sarà perché si fanno anche le rendicontazioni periodiche che devono essere mandate all'Unione c'è poi il problema dell'informatizzazione io ho avuto contatti con l'MF che sono venuti a trovarmi col Dipartimento del Nord che raggruppa sette regioni in cui quello si lamentava che gli enti locali non inserivano i dati ho detto scusi ma lei si rende conto di che stiamo parlando quelli al massimo hanno un computer con il collegamento internet e non sanno niente di niente quindi se voi volete veramente aiutare inseritevi voi i dati anche perché proprio quei fondi che vi dicevo che sono fondi un po' spot quelli che riguardano fondi precedenti in alcuni casi hanno addirittura finito i lavori perché erano 50 mila euro 70 mila euro 80 mila euro e in quei casi non gli danno nemmeno i soldi se non li mettono sul PN se non li mettono sulla banca dati di Regis tenuto conto che nessuno può anticipare nulla perché non hanno la possibilità nemmeno per le loro funzioni fondamentali quindi figuriamoci se possono anticipare i soldi quindi ci sono una serie di problemi pratici che poi però determinano determinano la difficoltà altro problema si parla del bonus si parla anche del fatto vabbè ora è bloccato però diciamo di una serie di imprese che sono state impegnate quindi imprese edili queste imprese edili hanno delle maestranze limitate si sono create nel tempo delle imprese che non avevano quelle categorie ma le hanno recuperate prima facevano tutt'altro mestiere quindi diciamo anche nella gestione poi degli appalti c'è una la dequalificazione delle imprese legate al fatto che bisogna liberare le forze e alla fine dal mio punto di vista è stato meglio che c'è stato questo blocco però non è un blocco definitivo nel senso che ci sono ancora dei completamenti da fare quindi un po' di tempo passerà ma i lavori qualcuno vi deve fare cioè le maestranze territoriali non è che sono infinite per poter fare tutti questi lavori quindi da una parte dall'altra parte questo ha fatto lievitare anche i costi quindi i costi da PNRR non bastano prima di tutto perché sono lievitati perché alcuni materiali sono aumentati in funzione della guerra del costo del maggiore dell'energia ma i costi da PNRR previsti nei progetti sono costi del 2020 quindi diciamo ci sono una serie di problematiche quando fanno le gare questo è stato riferito da diversi enti non hanno persone che concorrono non hanno imprese che concorrono in alcuni casi e quindi è stato previsto legislativamente un certo incremento dei costi quindi diciamo ci sono una serie di operazioni ma si va a tentoni cioè quando in realtà la programmazione servirebbe ad avere un quadro che ti semplifica ma anche ti accelera questi meccanismi Aldo c'è o non c'è? Aldo? Connesso e connesso forse non senti allora ci sono altre domande? Io ne avrei una prego senta se dovrebbe essere così la faccina mi correga lei se se sbaglio le opere sono tutte a consuntivo cioè nel senso si fanno le opere poi si presenta l'Unione Europea poi l'Unione Europea eroga il finanziamento c'è il famoso fondo di rotazione quindi fondamentalmente lo Stato anticipa ma poi non anticipa allora il fondo di rotazione è un fondo in cui diciamo noi abbiamo avuto degli acconti e poi dopo certamente ci sono delle altre tranche le prime cose che sono state date sono state date in termini di anticipazione e sono e hanno e sono entrate in questo fondo di rotazione che è un fondo nazionale ma il rapporto con con chi gestisce a livello territoriale questo vale per i ministeri a livello territoriale non è così perché in realtà io non ho una gestione fuori bilancio a livello territoriale ma io costruisco quindi sarà un'altra complicazione un fondo di entrata diciamo un capitolo di entrata un capitolo di uscita nel mio bilancio ordinario ma è vincolato a quello? ma certo però il problema è vedere bloccare e loro lo hanno fatto con il CUP il famoso CUP che sarebbe quello legato al SIOP per cui diciamo io nel tesoro individua la spesa individua l'entrata e individua il capitolo di spesa io quei soldi là non è che li posso utilizzare per pagare i disavanzi ma questo astrettamente poi dobbiamo fare delle verifiche per verificare che questo si realizzi sul serio oppure no il problema è quello perché poi se c'è una commissione come si fa? no la commissione non ci può essere perché li perdono i fondi se c'è la commissione li perdono e c'è un altro problema ancora perché secondo me nell'ipotesi in cui ci sia un'irregolarità ma io ho fatto anche l'appalto perché qual è quello che viene detto che c'è un potere sostitutivo che viene esercitato dai ministeri qualora l'ente non provveda perché vuole utilizzare le risorse quindi vuole fare in modo che se l'ente locale per esempio non utilizza le risorse gliele sottrae e le dà a un altro che è più meritevole più rapido nella gestione in modo tale che il fondo poi comunque come finalità non venga disperso ma se io ho appaltato e i lavori non sono ancora iniziati come la metto con l'impresa? cioè secondo me ci sono una serie di problemi che derivano dalle varie fasi in cui questo si può operare anche perché loro hanno diritto ad avere un'anticipazione appena la graduatoria viene approvata con il progetto però poi io l'obbligo di rendicontare anche forse fasi parziali in modo tale ma è fino al 90% quanto era l'anticipazione? era tanto? il 10% l'anticipazione proprio c'era una seconda fase però io prima che arrivo al 90% cioè nel senso che vado verso fasi stati d'avanzamento certo il problema è che se io durante il corso ho degli elementi che non funzionano perché diciamo non solo irregolarità o frodi ma anche diciamo cose meno rilevanti ma che comunque possono in qualche modo inficiare sulla qualità per esempio non applico una condizionalità quello dice scusami non hai diritto perché le condizionalità sono espressamente previste tu non l'hai attuata che è quella dell'ambiente che può essere quella delle donne dei giovani e così via e a quel punto chi se ne subbarca tutte queste spese parliamo di 121 miliardi vabbè diventerà debito non lo so diciamo secondo me poi si vedrà si debito già siccome ne abbiamo poco il 145% rispetto al PIL mi sembra un debito molto elevato per l'Italia sta scendendo nel 2023 la punta ovviamente più alta l'abbiamo avuta nel 2020 nel 2020 eravamo 158% rispetto al PIL bisognava andare al 1862 per avere un rapporto del genere quando è stata fatta l'unità d'Italia può stare levemente calando quindi no il problema è invece lo sviluppo se si riesce a incanalare un profilo di sviluppo allora ovviamente l'economia tira ma noi abbiamo un buon rapporto adesso per quanto riguarda il turismo però abbiamo tutta un'altra serie di problemi compresa la questione dell'energia su cui non siamo assolutamente autonomi e il costo è elevato abbiamo una scarsa attenzione per il lavoro molto lavoro precario cioè una serie di situazioni insoddisfacenti che poi incidono anche comunque nonostante tutto mi sa che l'avanzo primario in Italia sia ancora con un saldo positivo cioè che sia in avanza è che il problema è che bisognava fare il famoso ventesimo da attribuire poi per Erode ma diciamo che se dovesse ritornare in vigore il patto di stabilità quello originario ci spariamo ma siccome non c'è questa linea anche per quanto riguarda anche gli altri paesi sicuramente si troveranno delle soluzioni alternative quindi insomma però diciamo per venire anche un po' alla domanda che era stata fatta mi pare stamattina da Giovanna che non l'abbiamo andata fuori da Giovanna da Giovanna anche le modifiche proposte se non sono quelle di vedere la commissione come la Troica come era originariamente però ci saranno paesi che avranno meno debito meno meno negativo il rapporto debito più bil che saranno meglio e quindi a quel punto magari sarà lo stesso paese membro che ha quel debito elevato che lo deve ridurre ma quindi andiamo sempre lì avremo la possibilità di ridurlo speriamo di sì ma diciamo dobbiamo chiudere anche con qualcosa di positivo non è che possiamo soprattutto con la vostra partecipazione insomma ma diciamo che forse rispetto a due anni fa siamo meglio rispetto all'anno scorso un po' variabile speriamo in qualche modo diciamo di avviare una strada una strada diversa di essere più solerti nell'esecuzione dei lavori cercare di non fare furbetti nell'approfittamento dei fondi perché poi ci sono due profili che anche quello reputazionale noi già in Europa non è che abbiamo una buona fama se questa fama la consolidiamo in senso negativo probabilmente avremo più difficoltà a dimostrare che siamo persone serie se invece la nostra fama si consolida con la capacità comunque di dimostrare che siamo in grado di mettere in moto magari non tutto però insomma la maggior parte dei nostri delle azioni che abbiamo proposto probabilmente ce li scatteremo anche per il futuro oppure io sono anche convinta che lezioni che non sono altissime come questa servano perché diciamo la formazione dei giovani no no ma infatti io sono convintissimo che sia importante infatti sono tutti possono al portale però dovrebbe essere veramente no fra l'altro devo dire che insomma vabbè io ve le lascio avevo preparato delle altre slide che riguardavano proprio la questione delle frodi e come è nata una cosa ve la voglio dire quando la corte si la corte quando l'Europa era a 15 c'era una una tendenza quindi parliamo degli anni 90 quindi fino al 95 96 c'era una tendenza correlata di tutela dell'erario comunitario perché come vi dicevo l'erario comunitario era considerato anche un erario soggettivo perché per come si compone era anche un erario dei paesi membri poi questa logica tant'è vero che sulle sono stati quelli gli anni in cui si è coniata tutta la legislazione importantissima che c'è stata in materia di frodi in materia di riciclaggio in materia di lotta la corruzione come regolamenti principi come atti atti di protocollo importanti dopodiché poi con l'avvento degli altri paesi ma non è soltanto l'avvento dei paesi è stato anche il problema del tipo di di assenso cioè in in Europa si vota l'unanimità allora vuol dire che l'unanimità alla fine cioè chi non è d'accordo può bloccare il deciso se voi pensate che c'era addirittura nella per quanto riguardava la commissione europea l'idea di non dare 28 paesi all'epoca erano 28 quindi 28 commissari ma di darne meno in funzione dei due terzi non è mai entrata in vigore questa norma perché non sono riusciti mai a mettersi d'accordo e voi lo trovate appunto nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea però dall'altra parte probabilmente questo è un sistema che andrà rivisto ma per rivederlo devono essere tutti d'accordo perché bisogna partire dall'unanimità e se non si risolve questo problema probabilmente c'è sempre chi può bloccare soluzioni giuste perché le trova proprio a proprio danno no come come fatti del proprio danno comunque diciamo che in quella in quel primo embrione era è nata diciamo tutta una legislazione che poi ha avuto una ricaduta negli stati membri tant'è vero che in Italia ne avrete sicuramente sentito parlare quando la famosa convenzione PIF che sarebbe la convenzione sulla protezione degli interessi finanziari è stata approvata anche lì dal 95 è stata approvata nel 2000 ma in questa legge che era la 300 è la legge che poi ha prodotto un'importantissima norma che riguarda la responsabilità delle società nel senso che le società per il diritto penale ovviamente non sono responsabili perché è responsabile l'individuo quindi diciamo tutto il profilo delle frodi poteva essere realizzato in funzione del soggetto che era una persona giuridica che non era responsabile a quel punto la responsabilità ricade sui meccanismi che tu devi necessariamente adottare per cercare di avere un controllo adeguato ai fini di evitare determinati fenomeni come succederà poi con tutte le norme che riguardano la corruzione cioè devo mettere in piano un sistema che consenta di fare una serie di verifiche che se non le ho organizzate a quel punto diciamo rispondo io responsabile di quell'azienda rispondo per non averle organizzate anche se non le ho commesse direttamente questa situazione è radicalmente cambiata vabbè poi diciamo delle frode ne parleremo in un'altra occasione però è radicalmente cambiata con l'avvento di tutti questi altri paesi perché nel 2003 nel 2000 insomma dopo il 2010 la commissione voleva dare un input per cambiare la convenzione PIF ha avuto una fatica c'è stata una fatica indiavolata ed è non riuscita a fare un regolamento ma è riuscita a fare solo una direttiva non è irrilevante aver fatto un regolamento una direttiva perché il regolamento è automaticamente impegnativo nei confronti di tutti i paesi perché una volta emanato vale per tutti i paesi che vi partecipano la direttiva va recepita quindi c'è una partecipazione dello Stato membro che può cambiare delle cose le può definire ma è stata una trattativa all'ultimo sangue che ha portato una direttiva che è stata approvata nel 2017 che però fra le luci e le ombre ha da una parte considerato come frodi specifiche le frodi sugli appalti che poi sono le frodi più diffuse dall'altra parte ha incanalato anche la corruzione nell'ambito di questa direttiva anche il riciclaggio però e ha individuato anche la frodi all'IVA ma guardate un po' diciamo perché ci sia una frode rilevante per il sistema comunitario bisogna arrivare a frodi da 10 milioni di euro se no per l'Europa non esiste la frode perché non è considerata una frode grata e ci deve essere un rapporto di reciprocità quindi ci sono poi alla fine delle trattative delle trattative in alcuni casi a ribasso ma dovute al fatto che diciamo ci sono interessi in alcuni casi interessi contrapposti bene vi ringrazio dell'attenzione siete molti stati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti